Grazie a tutti. Il franco bollo commemorativo per i cento anni della nascita di Silvano Arieti segna una data storica per la psichiatria, ma anche per le neuroscienze in generale. Oggi, infatti, con questo franco bollo non si celebra solo un grande psichiatra, come tutti voi o alcuni di voi l'hanno conosciuto. Soprattutto si celebra un grande uomo, al pari di personaggi molto famosi che sono stati oggetti di franco bolli importanti, come per esempio Galileo Galilei, recentemente. E uomini che hanno fatto la storia dell'uomo stesso. Silvano Arieti ha cambiato l'approccio alla malattia mentale, soprattutto per malattie assai complesse come la schizofrenia, mettendo l'uomo al centro dell'osservazione, non tanto i sintomi né tantomeno il decorso della malattia stessa. L'uomo con la sua dignità, il suo diritto di compiere il proprio percorso esistenziale, come tutti, e di essere compreso dai suoi simili. Una psichiatria umanistica, antropologica, in netta opposizione con l'avvento della neurobiologia, proprio negli anni della sua pur relativamente breve esistenza. Due ricordi faccio io nel 1974, ero un giovane farmacologo, adesso sono vecchio, Ho avuto il piacere e l'onore di conoscere Silvano quando lui veniva in Sardegna, avendo una casa a Villa Simios. Ricordo perfettamente come egli ascoltasse con interesse i miei studi con l'apomorfina. Non vi spaventate, è una sostanza molto banale, ma che è conosciuta da tanti anni. E come l'apomorfina sui pazienti psicotici avesse un effetto particolare, che dopo pochi minuti dalla somministrazione, in effetti fosse in grado di far regredire sintomi importanti della schizofrenia, come i deliri e le allucinazioni. Bene, potete immaginare, per uno psicanalista una cosa del genere, Poteva stupirsi, poteva indurre in lui stupore, per niente. Ho indotto in lui soltanto interesse, interesse, forte interesse. Interesse anche per i sali di litio, che in quegli anni avevano cambiato la diagnosi dei pazienti classificati come schizofrenici. Arieti partecipò con uno storico intervento a un mio congresso internazionale in quegli anni, fatto a Cagliari, sulla psicosi ciclica. Scrisse il manoscritto per la pubblicazione di suo pugno, pensate. Non temeva il progresso della psichiatria biologica, anzi, ne era profondamente affascinato. Tanto era sempre l'uomo a vincere. Quando mi trasferì nel 1988 qui a Pisa, percepì subito che ero nella città dove lui aveva trascorso la sua gioventù e i suoi studi. Ne rimasi affascinato e il romanzo Il Parnasse fece il resto. Conobbi ben presto Rita Bruschi, che era già da tempo sulle orme di Arieti e impegnata a ricordarne la grande figura, e fondammo il 7 aprile del 2001 l'associazione a suo nome. E poi è stato un susseguirsi di eventi mirati ancora a sentir parlare di lui e a vivere nel suo ricordo. Questo francobollo oggi suggella questo ricordo per noi e spero anche per voi. Grazie dell'attenzione. Voglio ricordare brevemente le istituzioni che hanno associato il proprio sostegno all'iniziativa della nostra associazione. Ovviamente il comune di Pisa, l'università di Pisa con il suo rettore, il magnifico rettore Massimo Ogello. Questo è il bollettino illustrativo, perché lei parlava del francobollo, quindi per cui noi abbiamo portato alcuni bollettini illustrativi che possiamo, d'accordo con la dottoressa Bruschi, possiamo dare quantomeno alla prima fila, dove c'è tutta la sua parte, l'intervento, e questo praticamente è il certificato di nascita del francobollo. Benissimo. Tenuto a battesimo da due grandi personaggi, insomma. Grazie. Poi volevo ringraziare la Scuola Normale, soprattutto nella figura di Fabio Beltram, la Scuola Sant'Anna, soprattutto per Domenico Perata, la Società Italiana di Psichiatria, con Claudio Mencacci ed Emilio Sacchetti, e l'American Academy of Psychoanalysis and Dynamic Psychiatry, Michael Blumenfield. Comeppure vorremmo ringraziare la comunità ebraica di Pisa, Guido Cava, i cui membri non possono partecipare oggi a questo incontro, ma desiderano esprimere tutta la soddisfazione per il risultato raggiunto. Poi voglio fare uno speciale ringraziamento all'Onorevole Antonio Catricalà, che è stato forse l'attore principale nel promuovere questo francobollo, che come sapete era o è tuttora presidente della consulta per l'emissione delle carte, ma lo riposte, ma lo era ovviamente al tempo della nostra richiesta, che non è stata neanche tanti mesi fa, era verso ottobre, settembre-ottobre dell'anno scorso. Il 2013. Vorremmo salutare Bruno Crevato Selvaggi, che è membro della consulta per la filatelia, che è stato molto vicino a noi in questi periodi, Elisa Guidi e Daniele Leccese della Scuola Normale, la cui preziosa professionalità ha reso possibile questa giornata, e tanti amici preziosi ci hanno seguito e sostenuto nel corso degli ultimi sedici anni, da quando abbiamo intrapreso l'impegno di rivitalizzare il ricordo e il lavoro sull'opera di Silvano Arieti. Vi dirò alcuni nomi, la maggior parte di questi purtroppo non ci sono più, quasi tutti. E sicuramente alcuni di questi sarebbero qui oggi con noi per festeggiare questo traguardo. Quindi ricordiamo Franco Bassani, Carlo Madrignani, Aldo Gargani, Ugo Riccarelli, Umberto Carpi, Gino Nunes, Grazia Gimmelli e infine, non da ultimo, Michele Luzzatti. Bene. Io adesso vorrei passare la parola ovviamente a Marisa Giannini, che è responsabile della filatelia delle poste italiane, per un suo saluto. Grazie, grazie professore. Buongiorno a tutti, mi scuso moltissimo perché purtroppo venendo da Roma abbiamo trovato dei lavori e che ci hanno fatto fare questo modestissimo ritardo in nome per conto appunto dei vertici di poste italiane, Ingegner Caio e la Presidente Todini, ho l'onore di portare a tutti voi un saluto per questo francobollo che lo Stato ha voluto dedicare ai suoi figli più meritevoli. Non è facile avere un francobollo, non è facile perché le richieste ne sono tantissime, superano i 2.000, 3.000 e soprattutto in questo caso il francobollo per Silvana Rieti era proprio giunto, proprio verso ottobre e novembre. La consulta era in ritardo, quindi per cui si è tenuta il 5 di dicembre e lì poi dopo grazie, come dire, agli auspici e all'interessamento della dottoressa Bruschi perché poi dietro i grandi personaggi ci sono anche le grandi persone che lì, come dire, sono stimati. Quindi non intendo minimamente pronunciarmi sulle opere di un personaggio così lontano dalla mia vita quotidiana, quindi così lontano da quello che io potrei dire, i giudizi assolutamente non mi sento. Però posso dire che da oggi in tutti i 14.000 uffici postali di poste italiane è commercializzato questo francobollo che veramente a pieno titolo, ne sono 2.700.000 esemplari, il bollettino illustrativo che sarebbe l'atto di nascita del francobollo, come ognuno di noi, è un atto di nascita che ne decide date, zona e circostanza. Praticamente è stato firmato dal professor Giovanni Umberto Corsini, ordinario di farmacologia dell'Università di Pisa e dalla dottoressa Rita Bruschi, psicologa psicoterapeutica. E anche questo atto di nascita che ha due padrini così importanti, quindi una testimonianza che non era neanche necessaria, ma ci sta tutta. Quindi per cui da oggi veramente l'Italia può rendere, come dire, sa comunque e può rendere merito a un suo figlio che ha meritato, perché non è semplice, non è facile avere un francobollo, è molto difficile e quindi c'è una grande selezione. E poi riguarda tutta una parte politica, diciamo, dove il Ministro è anche Presidente della Consulta, in questo caso, siccome era stata una materia delegata dal Ministro Zanonato, era Catricalà che aveva, diciamo, le deleghe sulla filateria. Come adesso, praticamente il sottosegretario Giacomelli, che alla Dele sarebbe stato presente oggi qua insieme a noi, tant'è che ci siamo visti in settimana proprio pronti per essere qua. e purtroppo evidentemente qualcosa non è andata proprio dritta e non c'è. Quindi per cui sono io che ringrazio e, come dire, chiunque volesse appunto un ricordo, c'è anche il servizio qua di Annullo, no? Proprio per portare a casa il ricordo di quella che è stata la giornata odierna. Quindi auguro un buon proseguimento di giornata e ringrazio per essere stata invitata. Grazie, dottoressa. Molto gentile, molto chiara è stata. Grazie. Allora passo la parola a Ranieri del Torto, Presidente del Consiglio Comunale di Pisa. Prego. Io a nome del Consiglio Comunale di Pisa esprimo la mia grandissima soddisfazione nell'essere qui. lo diceva prima chi mi ha preceduto, no? Non è facile ottenere l'emissione di un francobollo, se non sbaglio, nel 2014 di francobolli celebrativi ne sono stati emessi otto, se non sbaglio. Diciamo che in tutti sono 45, però dedicate alle persone. Dedicate a delle persone, almeno questo è quello che risultava dalla mia ricerca. però è significativo che di questi otto che riguardano dei personaggi ce ne sono ben due che riguardano i cittadini pisani, cioè uno lo ricordava lei, no? Il più noto forse è Galileo Galilei e poi c'è Silvano Arieti. Quindi credo che anche questa debba essere, per chi come me in qualche modo rappresenta la città, una grande soddisfazione, perché due su otto mi sembra una buona percentuale. E credo che sia significativo che al più noto Galileo Galilei si affianca a una figura che è più vicina a noi nel tempo, come quella di Silvano Arieti, che però in qualche modo va riscoperta, va coltivata, perché diciamo che non ha quei caratteri di così diffusa notorietà, pur essendo un personaggio straordinario come studioso, ma non soltanto come studioso della psiche, però anche, ecco, come una figura, direi, a tutto tondo, no? Un personaggio che in qualche modo si è caratterizzato per una vita passata negli studi, passata nella cura delle persone, però in qualche modo con molteplici interessi. Quindi io credo che vada reso il giusto onore, no? L'Associazione Silvano Arieti, che nel corso degli anni ha saputo tenere viva la memoria e il ricordo con molteplici iniziative di questo poliedrico personaggio. Quindi nel 2014, che appunto è una data importante, abbiamo questo incontro per questo annullo, le missioni del Franco Bolo, questo speciale annullo, e poi avremo nel mese di ottobre un importante convegno scientifico. Io credo che l'attenzione che la città di Pisa deve avere per Silvano Arieti sia in qualche modo anche il restituire qualcosa a lui come a tante altre persone che in qualche modo furono toccate da questa grande ferita che la città di Pisa si porta dietro, che è l'emanazione delle leggi razziali, che proprio nel comune di Pisa, a San Rossore, ebbe la sua promulgazione da parte del re. E così Arieti, ma come tanti altri insegni accademici o studenti, come in questo caso, anche persone comune furono costrette a lasciare Pisa e l'Italia in quegli anni drammatici. Noi come cittadini pisani ci portiamo dietro questo peso, che però è una macchia che ci consente anche di avere ben presente il significato del fare memoria. Fare memoria che consente di acquisire una maggiore consapevolezza di tutto quello che è avvenuto in quegli anni, dei drammi che sono avvenuti in quegli anni, e che tra l'altro in qualche modo bene sono sintetizzati anche nel romanzo Il Parnasse, che ricorda un altro episodio drammatico che è avvenuto nella nostra città in quegli anni. Noi in qualche modo sentiamo come città di Pisa di restituire qualcosa, ricordandolo oggi come in tante altre iniziative. Io ho detto che in un certo senso oggi è una tappa di un percorso. Pisa ha già dedicato una strada a Silvano Arieti qualche anno fa, è stata apposta una targa in via Sant'Andrea, la sua casa natale. Quindi in qualche modo il ricordo di oggi si inserisce in un percorso già avviato. Ecco, perché noi vogliamo ricordare lui e in qualche modo restituire qualcosa anche a quel giovane Silvano Arieti che fu costretto a emigrare così come tante altre persone in quegli anni drammatici soltanto perché di religione diversa da quella che veniva ritenuta il modo di intendere giusto e vero a cui tutti si dovevano uniformare. Io poi non voglio sottrarre ulteriore tempo ai contributi qualificati che poi mi seguiranno. Il mio è soltanto un ringraziamento a tutti voi che oggi siete qui perché mi sento veramente di dire che in qualche modo l'omaggio che voi e che chi ha organizzato questo incontro rende a Silvano Arieti in qualche modo onora veramente tutta la città che si riconosce nell'opera di questo suo figlio che è stato poi costretto a lasciare la nostra città che però in qualche modo qui è nato qui si è formato qui ha fatto le sue scelte che poi in qualche modo hanno improntato tutta la sua vita futura cioè la sua vita successiva. Grazie. Bene, ringraziamo anche Ranieri del Torto e io inizierei se siete d'accordo sugli interventi della giornata quindi inviterei Adolfo Pazzagli può venire qui come volete grazie e il titolo è professore merito di psicologia clinica dell'università di Firenze il titolo della sua comunicazione è Silvano Arieti un collega un maestro un amico Bene, buongiorno sono qui per meriti di età diciamo in quanto avendo solo 20 anni meno di Silvano sono stato chiamato fra gli psichiatri in servizio a ricordare i miei rapporti con lui e volevo ringraziare naturalmente la dottoressa Rita Bruschi e Umberto Corzini per questo invito che come tutto ciò che allude all'età ha sempre un contenuto ambivalente da un lato fa piacere e dall'altro fa sentire un pochino verso diciamo nella parte discendente della curva della vita io ricorderò qualche cosa ho scritto delle tracce ma non vi annoierò con la lettura ma qualche cosa dei miei incontri con le opere prima e con la persona poi di Silvano Arieti infatti io ho incontrato l'opera di Silvano Arieti durante la scuola di specializzazione che allora era in malattie nervose e mentali e direi che interpretazione della schizofrenia prima e poi l'American Handbook of Psychiatry che usciva in quegli anni hanno costituito non solo dei testi di riferimento ma un po' anche delle bandiere per noi specializzanti in una piccola minoranza che aveva desiderio di occuparsi di una psichiatria dinamica e quindi eravamo un po' in opposizione con i sacri testi e questo ci dava appunto l'idea che al di là dell'oceano dalla parte dei vincitori si parlasse di una psichiatria così da parte di un italiano ci dava una forza per reggere così a certi attacchi più descrittivamente sintomatici che avevamo occupiamoci dei sintomi e della loro biologia meno della persona e quindi devo gratitudine in questo senso in diretta a Silvano Arieti proprio per questo sostegno sostegno che si accentuò negli anni sessanta quando ci furono le giornate di psicoterapia cioè quando a Milano quello che poi sarebbe diventato psicoterapia scienza umana cominciò a fare delle riunioni le giornate milanesi di psicoterapia alle quali Silvano fu invitato fece due relazioni e me lo ricordo perché appunto intanto ascoltandolo io ammirai molto la capacità che aveva di parlare in modo semplice ricordo anche cominciò scusandosi non so se ricordo abbastanza l'italiano ma era in realtà un po' un vezzo perché parlava in modo molto preciso no? e quindi descriveva casi clinici difficili misteriosi in fondo come quelli della schizofrenia ma altra psicopatologia e teorizzava su di essi in modo molto semplice e lineare quando poi l'ho incontrato mi ha spiegato la grande fatica che aveva fatto perché arrivando negli Stati Uniti dopo aver studiato in Italia a Pisa aveva cominciato a scrivere lavori che lui diceva molto contorti spesso noi abbiamo un po' l'abitudine e un po' anche il significato difensivo di scrivere cose difficili per nascondere la non chiarezza del pensiero e allora mi diceva Silvano vedi sono arrivato qui e ho scritto un lavoro e mi diceva ma non ho capito cosa volevi dire e io lo spiegavo a parole e mi diceva ecco allora scrivilo così che è se ci pensate bene un grande insegnamento rispetto a certi discorsi pseudoscientifici medici per cui si dice che uno entra in uno studio avendo il mal di testa e esce avendo la sindrome cefalalgica o cose analoghe insomma ecco questo era una caratteristica che Silvano certamente non aveva perché diceva no dove dovete fare bisogna scrivere come volevi dire spiegati ecco e dopo quando ti ha spiegato ora scrivilo così che mi è sembrato un grande un grande insegnamento o poi dopo averlo incontrato a Milano quindi prima come autore poi come persona ma come relatore invece negli anni settanta abbiamo avuto dei rapporti personali significativi veniva da New York ricordo che per esempio usava voli che atterravano in Jugoslavia faceva dei viaggi un po' contorti insomma forse lo stavano meno non so e prima di partire per la Sardegna Cagliari Villa Simius si fermava a Firenze aveva dei cugini a Sesto Fiorentino che io mi ricordi mi pare ecco e si ricordava di me e allora è rimasto fra l'altro rimase molto colpito perché io pieno di ammirazione ero appena stato diventato professore incaricato di psichiatria non avevo fondi e gli pagai l'albergo io non gli dissi nulla ma gli fu riferito e rimase molto colpito dell'importanza perché gli sembrava impossibile questo è un altro tratto era un uomo importante ma si sentiva una persona anormale ma come questo mi paga l'albergo perché mi fai questo e da lì cominciò a fare dei seminari annuali nella scuola di specializzazione in psichiatria che io avevo cominciato a dirigere e naturalmente cominciamo con l'interpretazione della schizofrenia poi con depressioni devi e gravi le fobie i processi creativi in quegli anni facemmo io direi amicizia nel senso che ci vedevamo volentieri ci telefonavamo è stata forse la prima persona quando una telefonata intercontinentale era un evento ci telefonavamo e John c'è New York al telefono e per esempio ricordo posso venire quest'estate dopo il rapimento moro come sono le condizioni c'è da viaggiare in Italia per esempio oppure mi chiedi consiglio se andare o no a un convegno a Tokyo organizzato il sesso in oriente e in occidente io lo sconsigliai ero stato invitato anch'io ma figuriamoci se mi potevo rivendere come esperto di sesso in oriente e in occidente onestamente proprio no ma neanche lui ecco invece ci andò e poi lessi sul Corriere della Sera come un pesce fuor d'acqua si muoveva il professor Silvano Arieti di New York infatti mi telefonò dicendo avevi ragione ecco quindi si stabilì un rapporto che era anche molto per me molto piacevole oltre che interessante poi purtroppo l'ultimo anno ricevete una telefonata da un familiare che mi disse non può venire dovevamo parlare probabilmente del Parnas nell'anno però non ne sono sicuro e invece poi Silvano non venne in vacanza e morì dopo poco insomma come psichiatra appunto Silvano mi ha detto che lui aveva studiato a Pisa aveva apprezzato Ayala per la correttezza la precisione con cui insegnava ma diceva era soprattutto un neurologo e credo che che avesse ragione mentre le sue prime fondanti esperienze furono fatti al New York State Psychiatric Hospital dove c'era una sorta di mega edificio con tantissimi ricoverati che sembrava non avere più una vita mentale diceva stavano lì certo c'era per esempio la terrazza dove andavano gli schizofrenici ma tutta con la gabbia intorno perché non si buttasse del sotto quindi c'era una vita ripetitiva istituzionalizzata al massimo e quindi sembravano mentalmente quasi morti difetto da malattia o conseguenza dell'istituzione questo Silvano non se lo chiese ma cominciò osservare le cose e vide che quando erano di turno certi infermieri o infermiere con cui il singolo paziente aveva un rapporto speciale questo si rianimava ecco cioè cominciava a nonostante persistere della sua patologia però mostrava un contatto umano e allora vide in questo difetto in fondo una sorta di difesa per incapacità non un autismo come dire primariamente patologico ma conseguenza di un ritiro difensivo e cominciò a offrirsi come soggetto di relazione e quindi a occuparsi di psicoterapia e questo è stato un grande insegnamento per lui e di riflesso per noi questo vedere un complesso di ragioni personali storiche sociali attuali come confluire in una psichiatria che allora non può che diventare psicodinamica nello studio dei diversi fattori e nella evidenziazione di questi attraverso una riattivazione in una relazione presente e questo è stato qualcosa che per Silvano era assolutamente imprescindibile cioè offrire offrire alle persone la possibilità di rianimarsi rivivendo in qualcosa che non è la macchina del tempo ma è viceversa una relazione attuale in cui i fattori storici i fattori personali le difese le angosce vengono a riemergere e di questo devo dire tanto che sono qui a parlare narcisisticamente dei miei ricordi abbiamo discusso molto perché e questo ho appreso molte cose parlavamo di casi clinici sia passeggiando per New York perché fra l'altro Silvano ci invitò mia moglie ed io per un periodo a New York abbiamo ci invitato a cena a casa e soprattutto passeggiavamo molto discutendo di casi clinici sia a New York che a Firenze aveva questo atteggiamento molto attento vigile ma anche un pochino chiuso infatti ricordo una volta si arrabbiò perché era venerdì o sabato e si passeggiava e c'era una stazione della metropolitana la gente usciva e chiedevano a me dov'è il negozio ma come tu non sai neanche l'inglese sei qui da una settimana e io vivo da anni e chiedono a te eh sì perché io li guardo in faccia non sto chiuso e a me le strette come te scusate l'aspetto poco accademico ma usai questa espressione che vi ripeto per dire il tipo di eh confidenza ecco che eh eh condividevamo e questo eh era una cosa su cui volevo richiamarvi l'attenzione perché nel mio titolo c'è la parola maestro vedete eh se siamo stati in confidenza entro certi limiti amici eh anche eh però io ho imparato molto da questo io ero appunto agli inizi lui era un uomo molto affermato internazionalmente però si metteva sempre in gioco cioè mi aiutava a tirare fuori cose dei miei pazienti e prendeva molto sul serio anche le obiezioni che io facevo a lui abbiamo anche abbastanza baruffato poi vi dirò ma faceva quello che se voi avete presente eh quel bel libro di George Steiner la lezione dei maestri no? in fondo descrive maestri che bloccano il sapere dell'allievo cercando esibizionisticamente di allagarlo con le proprie nozioni maestri che si lasciano distruggere dalle obiezioni degli allievi e invece maestri che prendendo sul serio il materiale portato dall'allievo ne favoriscono la crescita lo sviluppo nell'allievo ma in loro stessi ecco io credo che questo modo di discutere di casi clinici eh sia stato eh molto presente in queste chiacchierate sul Lungarno a Firenze o in Central Park a New York fra Silvano Arieti e me e io in questo ero allievo che però anche poneva dei problemi fra l'altro io ero un allievo della società di psicanalisi a quell'epoca però ero molto rigido mentre Silvano proprio per questo suo bisogno di offrire una sponda di relazione ai pazienti era alieno da ogni tipo di ortodossia quindi le mie obiezioni erano e non credo sempre sbagliate anzi a volte erano piuttosto sul versante ma come hai fatto questo tanto per citarvi un giorno mi disse eh no ora devo rientrare a casa perché alle 5 mi telefona un mio paziente che sta male però che doveva allontanarsi da una madre possessiva è andato in California e allora quest'ora gli faccio una seduta per telefono oggi tutti se ne parlano dell'analisi condensata dell'analisi per Skype che a quel tempo non c'era ma io a quella rimasi francamente scandalizzato ecco però poi tuttora non sarei capace credo odio il telefono anche per ragioni di famiglia pensate che mio nonno diceva che non lo voleva perché era una scatolina di bacchelite che ogni tanto faceva drin drin e tutti correvano e quindi io sono rimasto un po' di questo stile però Silvano mi spiegava invece la necessità che questa persona aveva per controllare certi suoi problemi di avere contatto con lui nell'ora della sua seduta ecco questo per dirvi alcuni aspetti che riguardano un modo di fare psichiatria che non è appunto lo studio della patologia dello psichico ci sono le percezioni c'è la patologia delle percezioni illusioni c'è il pensiero e la patologia del pensiero ma riguarda piuttosto per dirla con Minkowski la psicologia del patologico stai male devo capire la tua psicologia per aiutarti in quella relazione appunto in cui noi si possono rivivere anche traumi remoti i pazienti attraverso il rapporto con noi per farla breve finirò anche io col Parnasse una sera a cena a casa di Silvana a New York mi disse guarda sto correggendo le bozze della traduzione italiana forse l'aveva fatta lui non sono sicuro ma mi pare di un libro il Parnasse che uscirà non te lo posso dare però compralo perché è un libro importante e mi diceva appunto che è la cosa alla quale tengo di più e che mi è costata di più a scriverla e allora vorrei finire in modo con una una citazione vedete era una persona sensibile per certi versi apparentemente fragile difesa timorosa però sapeva di dover condividere con i pazienti le angosce i drammi le tragedie non solo attuali ma della storia nella introduzione al Parnasse scrive è come se questo libro l'avessi scritto non solo con l'inchiostro ma anche col sangue pagina dopo pagina mi riusciva impossibile sottrarmi alla profonda esigenza che mi animava ma non era facile rimandare a un'epoca riandare a un'epoca in cui avrei potuto essere coinvolto ma che ho scansato anche se ora mi trovo a doverla necessariamente rivivere non era facile raccogliere lacrime che ne avevo versato ne visto in altri ma che ancora bruciano nei miei occhi ora vedete questa descrizione parla della vicenda del Parnasse ma la possiamo anche trasferire alla vicenda di tutti i pazienti mi pare che queste belle e commoventi parole di Silvano possono essere dette non solo per il dramma del Parnasse della guerra della Shoah ma anche stese ai traumi ai drammi della storia dei nostri pazienti ai quali con questo atteggiamento possiamo offrire una nuova opportunità quella di riviverla insieme di ciò Silvano Arieti è stato secondo me maestro come ha scritto di recente un collega amico David Mernaggi Giuseppe Parlo Rockets e Parnasse è contemporaneamente un maestro ed un paziente in un romanzo psicoanalitico ecco a me sembra che oltre che il Parnasse tutti i nostri pazienti siano contemporaneamente come dire maestri e pazienti di un romanzo che riviviamo insieme mi rendo conto che con questo sono un po' enfatico e in questo credo tradisco lo stile di Silvano Arieti ma dovete avere pazienza perché io sono io e lui è stato lui nonostante il nostro buon rapporto di stima di amicizia e nei miei i miei o nei suoi confronti il rapporto con un maestro di un tipo di psichiatria che altrimenti non avrei incontrato grazie grazie della pazienza grazie Adolfo per questa splendida testimonianza che ci hai portato bene io andrei avanti nella mattinata e inviterei Marco Bacciagaluppi che è il primo presidente Opifer a fare la sua presentazione il titolo è Arieti la mia principale figura di riferimento prego Marco sono molto onorato di poter parlare a questa riunione di Arieti che è stato anzitutto mio maestro per usare le distinzioni che ha appena fatto Pazzagli Arieti è stato soprattutto mio maestro è stato il maestro mio e della mia prima moglie a New York nel 63 64 ormai 50 anni fa però l'avevo già conosciuto nel 62 come anche Pazzagli a Milano nella prima riunione organizzata da Pier Francesco Galli dove Arieti per la prima volta tornava a parlare in Italia per la prima volta dopo la guerra e dove ha incontrato Benedetti altro grande specialista della schizofrenia che pure lavorava all'estero in Svizzera e lì si sono incontrati e io ho conosciuto entrambi poi nel 63 64 ho trascorso con mia moglie un anno a New York come suoi allievi abbiamo seguito le sue lezioni al New York Medical College abbiamo poi tradotto alcuni suoi libri fra i più importanti cioè il 6 intrapsichico che è del 67 la creatività che è del 76 e la depressione grave e lieve scritta con suo cugino Jules Benporad del 78 poi abbiamo rivisto la traduzione della seconda edizione di interpretazione della schizofrenia del 74 che a parere di Ariti aveva molto bisogno di revisione posso fare un esempio lui mi ha scritto esterefatto perché una sua espressione in inglese she was fired che vuol dire venne licenziata e è stata tradotta venne ustionata allora ha detto per favore per favore rivedete la traduzione nel fare questo lavoro abbiamo ottenuto con lui una corrispondenza di molti anni che conservo Ariti è stato quindi per me la principale figura di riferimento attraverso di lui ho assimilato la scuola di psicoanalisi interpersonale culturale alla quale apparteneva pure Erich Fromm che è stato insegnante di Ariti al William Allonson White Institute di New York dove Ariti ha fatto la sua formazione successivamente ne è diventato presidente nel 2012 ho scritto Paradigmi in psicoanalisi pubblicato da ETS di Pisa questo libro è pieno di riferimenti ad Ariti nell'indice analitico il suo nome compare 19 volte e oggi voglio mettere in evidenza i principali riferimenti che faccio a lui nel mio libro quindi ho nominato il mio libro solo per spiegare il nesso logico fra le varie citazioni che faccio ad Ariti che altrimenti non avrebbero un filo logico il filo logico sono i riferimenti che faccio a lui nel corso dei vari capitoli del libro da primo distingo vari livelli sistemici seguendo la teoria generale dei sistemi di Von Bertalanfi utilizzata da Arieti poi cito da il sé intrapsichico il suo concetto del mesocosmo cioè il mondo dei sistemi viventi distinto dal microcosmo un mondo di dimensioni subatomiche e dal macrocosmo un mondo più ampio dei sistemi solari successivamente cito dalla depressione grave e lieve un esempio di concretizzazione del concetto meccanismo in comune ai sogni e dalla schizofrenia cioè un paziente aveva l'idea delirante accompagnata da allucinazioni gustative che la moglie gli avvelenasse il cibo per non rendersi conto della sua sensazione non rendersi conto a livello concettuale della sua sensazione che la moglie gli stava avvelenando la vita a proposito della teoria dell'attaccamento di John Burby cito anzitutto il concetto di Arieti in il sé intrapsichico che le emozioni suscitate dalla separazione del bambino dalla madre sono più sviluppate rispetto ad altre più primitive esse comportano la previsione di un pericolo e si possono esprimere in modo simbolico ad esempio con parole irate posso aggiungere da parte mia che questo non vale ovviamente per il primo anno di vita prima dello sviluppo del linguaggio poi riporto dalla seconda edizione di interpretazione della schizofrenia l'osservazione che l'esperienza emozionale correttiva che si fa in terapia concetto di Franz Alexander del 1946 comporta anche importanti cambiamenti cognitivi trattando della ricerca infantile infant research ricordo ciò che dice Arietti sempre in interpretazione della schizofrenia del famoso caso di Helen Keller era una bambina che è rimasta sorda e cieca in seguito ad una malattia iniziò una terapia a sei anni con un'insegnante molto dotata Anne Sullivan e Arietti descrive l'occasione in cui la sua insegnante mentre reversava dell'acqua su una mano scandiva la parola acqua sull'altra mano in questo modo Helen Keller acquisì l'uso del linguaggio poi diventò così brava che scrisse la sua autobiografia in un velo inglese in rapporto al trauma riferisco un contributo particolarmente importante di Arietti a livello storico sociale in Le vicissitudini del volere del 72 in un paragrafo intitolato Gli spettatori del male descrive ad un livello sociale quattro ruoli che caratterizzano anche le famiglie violente come descritto molti anni dopo nel 94 da Davis e Frolli appartenenti alla scuola relazionale che può essere vista come la continuazione della scuola interpersonale e culturale durante il massacro degli armeni da parte dei turchi nella prima guerra mondiale che può essere visto come un precursore della Shoah erano presenti i seguenti quattro ruoli la vittima il malfattore chi si opponeva al male di gran lunga i meno numerosi e lo spettatore maligno di gran lunga i più numerosi cioè chi assisteva allo spettacolo e non aiutava la vittima e con la sua passività non esprimeva l'aggressività direttamente ma ovviamente la esprimeva indirettamente delegandola al malfattore come un altro esempio di questi ruoli Arieti riferisce un episodio che ebbe luogo a New York qualche anno prima che lui scrivesse il libro una giovane donna venne assalita e pugnalata per strada 35 persone sentirono le sue urla nessuno andò ad aiutarla non chiamarono nemmeno la polizia ecco questo è un esempio di spettatore maligno mia moglie e io eravamo a New York in quei giorni e leggemmo della cosa sul giornale poi parlo del Parnas il romanzo che Arieti scrisse sul caso di Pardo Roques l'embreo di Pisa cui una fobia dei cani impedì di sottrarsi ai tedeschi che lo uccisero io commento che per sfuggire ad un predatore illusorio il cane Pardo finì per soccombere ad un predatore reale i tedeschi faccio anche l'ipotesi che questo romanzo possa essere stato l'espressione da parte di Arieti senza rendersene conto della colpa del sopravvissuto survivor guilt descritto per la prima volta da William Nederland nel 1961 perché lui era un ebreo di Pisa che nel 39 si era rifugiato negli Stati Uniti mentre Pardo era un ebreo di Pisa che vi era rimasto ed è stato ucciso quindi faccio l'ipotesi che senza rendersi conto nello scrivere questo romanzo fra le altre cose Arieti fosse animato dalla colpa del sopravvissuto che è un sintomo è stato visto successivamente dopo la descrizione di Nederland come un sintomo di PTSD Post Traumatic Stress Syndrome nel trattare del modello relazionale e contraposto al modello pulsionale di Freud riporto anzitutto la citazione di Herbert Reed uno storico dell'arte che fa Arieti in creatività secondo la quale nella transizione dal paleolitico al neolitico invece del naturalismo vitale della pittura delle caverne troviamo una astrazione mortalmente monotona queste sono le parole di Reed nelle decorazioni geometriche dei vasi del neolitico però Arieti stesso ritiene che l'astrazione sia stato un passo avanti per Reed è un passo indietro per Arieti è un passo avanti cito poi quello che Arieti dice della teoria dell'attaccamento di Bowlby in love can be found in love can be found se si può trovare l'amore del 77 lo cito in inglese perché non è ancora stato tradotto in italiano questo è un libro che è scritto assieme al figlio James i due autori vedono la teoria dell'attaccamento di Bowlby come il punto di partenza di qualsiasi trattazione dell'amore queste sono le loro parole sempre in questo libro sono anche d'accordo con Fromm nel vedere l'amore di sé come incendibile dell'amore per gli altri a proposito di Bowlby ricordo che lui e da Rieti hanno collaborato quando Bowlby contribuì un capitolo alla seconda edizione di American Handbook of Psychiatry curato da Rieti quindi il trattato americano di psichiatria è stata tradotta in italiano solo la prima edizione e per molte generazioni di psichiatri italiani è stato il libro di testo poi è uscita una seconda edizione non tradotta in italiano che è arrivata a sette volumi negli anni settanta e ottanta parlando della terapia delle psicosi faccio un confronto tra il diverso atteggiamento di Rieti e di Benedetti nei confronti dei pazienti psicotici lo scopo di Rieti era di portare il paziente dalla paleologica ossia da quello che Freud chiamava il processo primario al pensiero aristotelico ossia al processo secondario Benedetti invece trovava utile condividere anche solo per qualche tempo il funzionamento mentale patologico del paziente poi contrappongo il concetto che Rieti aveva appreso dalla Fromm Reichman al William Ellison White ossia che il fattore terapeutico essenziale è il rapporto umano questo è contrapposto alla terapia cognitivo comportamentale che purtroppo sta ormai prevalendo nella terapia delle psicosi un collega mi ha detto l'altro giorno che è proprio prescritta nelle pubblicazioni ufficiali sulla terapia delle psicosi a livello socio-culturale ricordo poi un lavoro di Rieti del 59 in cui nota che in una società industrializzata la famiglia deve continuare a soddisfare i bisogni affettivi dell'individuo tuttavia molte sue attività sono state delegate ad altre istituzioni una madre dirige più spesso l'ostilità sui suoi figli e allo stesso tempo il padre perde di autorità questa costellazione secondo Rieti può portare ad una predisposizione alla schizofrenia nei figli esamino esamino poi un contributo di Rieti in la depressione grave e lieve egli parte dalla constatazione dell'incidenza maggiore della depressione nelle donne e la collega alla sottomissione delle femmine ai maschi in una società patriarcale la sottomissione le rende più vulnerabili ad avvenimenti quali una perdita se esse cercano di riguadagnare potere attraverso l'attrattiva sessuale allora in meno pausa possono andare incontro alla melanconia involutiva anche se a livello sociale sono avvenuti dei mutamenti possono persistere delle strutture mentali inconsce con i sentimenti relativi infine Rieti fa uso delle categorie descritti da Riesman in La folla solitaria Riesman era un allievo di Fromm nota che vi è stata una diminuzione nella frequenza dei disturbi depressivi gravi e collega questo tipo di depressione self-blaming auto-accusatoria con la personalità autodiretta di Riesman nella società moderna e tipicamente negli Stati Uniti tende a prevalere la personalità eterodiretta che si può accompagnare al tipo di depressione creming rivendicativa meno grave dell'altra quando in ultimo tratto della preistoria parlo delle vedute evoluzionistiche di Rieti da lui acquisite negli anni 50 con la lettura dei classici della etologia di Lawrence e Tinbergen che Bowlby stava leggendo contemporaneamente dall'altro lato dell'Atlantico il culmine dell'indagine evoluzionistica di Rieti sui meccanismi cognitivi e forse il culmine di tutto il suo pensiero è un paragrafo di Il Sé intrapsichico intitolato L'origine biologica della conoscenza e la realtà mesocosmica e gli qui arriva alla stessa conclusione di Lawrence che le categorie kantiane di spazio e tempo sono a priori per quanto riguarda l'individuo ossia sono innate mentre sono a posteriori per quanto riguarda la specie che le ha acquisite nel corso dell'evoluzione se le categorie sono state selezionate è a causa del loro valore di sopravvivenza è così che funziona l'evoluzione ciò significa che corrispondono alla struttura del mesocosmo ossia il mondo neumenico di Kant in sé inconoscibile si può conoscere indirettamente attraverso questo ragionamento evoluzionistico a Rieti è arrivato a questo concetto indipendentemente da Lawrence le cui vedute sono state pubblicate solo dopo la morte nel 92 perché il manoscritto russo dove le aveva scritte durante la prigionia in Russia era andato apparentemente smarrito dopo la morte di Lawrence è stato ritrovato in un armadio dietro ad altre cose e l'hanno pubblicato comunque è uscito nel 92 mentre il libro di Rieti è del 67 ricordo anche da il sé intrapsichico la definizione che Rieti dà della paleologica questo è un suo concetto fondamentale in comune alle società primitive e dai bambini fino a 3-4 anni e che si ritrova negli stati psicopatologici l'identificazione attraverso i predicati anziché attraverso i soggetti nella paleologica avviene una confusione tra somiglianza e identità la paleologica porta alla formazione di classi primarie dice Rieti nel suo libro Rieti fa l'esempio di un soggetto che ha la domanda qual è la capitale della Francia risponde Londra ossia si è fermata alla classe primaria capitali europee Londra e Parigi hanno in comune il predicato di essere capitali europee e sono intercambiabili per il soggetto paleologico la somiglianza attraverso un predicato diventa un'identità a questo punto posso esprimere anche una mia riserva relativa su Rieti a differenza di altre due mie figure di riferimento Fromm e Borbi Rieti mostrava un certo atteggiamento cauto e conciliante non era un polemico gli mancava la vena polemica di Fromm e di Borbi nel 35 e nel 58 Fromm è insorto ben due volte a difesa di Ferenzi contro Freud nell'84 Borbi ha parlato del disastroso voltafaccia di Freud nel 1897 quando ha negato la realtà dei traumi delle sue pazienti ovviamente per negare la realtà dei propri traumi mi sembra che questa vena polemica utile mancasse invece ad Rieti per concludere queste mie citazioni mostrano l'ampiezza degli interessi scientifici di Rieti che andavano dall'evoluzionismo al livello sociale alla schizofrenia e che lo rendono tuttora attuale grazie del vostro ascolto grazie grazie Marco per questa presentazione dei contenuti del pensiero di Rieti così importanti grazie mille ancora questi sono i contenuti scientifici in ottobre però ero di quelli umanistici grazie andiamo avanti invito Corrado Rossi direttore merito del DSM della OSL 5 di Pisa e la sua esperienza e presentazione è l'esperienza dell'appartamento Silvana Rieti grazie Corrado Buongiorno dopo questi interventi di peso che mi hanno preceduto che sono state anche una testimonianza del rapporto diretto con Silvana Rieti io che appartengo a una generazione di psichiatri un po' più giovane ma non troppo giovane non ho conosciuto direttamente Silvana Rieti ma posso anch'io affermare come è stato per i colleghi che mi hanno preceduto che è stato sicuramente uno dei punti di riferimento importanti addirittura nella scelta della specializzazione e poi anche nella conduzione pur attraverso una sintesi poi con altri riferimenti altre esperienze negli anni bollenti diciamo così della riforma psichiatrica in Italia e della costruzione di servizi di salute mentale di comunità l'argomento del mio intervento che vuole essere breve riguarda una piccola ma significativa realtà nel panorama della salute mentale pisana che porta nella sua denominazione ricordo con il nome stesso di Silvano Arieti e cioè il progetto dell'appartamento Silvano Arieti è una denominazione non casuale l'appartamento ci viene dalla storia di Arieti in Pisa è un segno rimasto tenue ma rimasto alla città della vita reale della gioventù trascorsa dei rapporti che aveva intrattenuto è intanto una casa d'epoca un bel appartamento Liberty nel centro storico di Pisa al limite addirittura costruito sui vesti delle mura medievali che Silvano Arieti ha certamente conosciuto e dovrebbe aver praticato di proprietà di una signora che Silvano Arieti ha conosciuto e di cui è stato amico un'amicizia durata nel tempo pur nella lontananza e nel mancato ritorno poi a Pisa un appartamento che la signora alla sua morte ha lasciato in lascito la comunità ebraica pisana perché fosse usato per scopi sociali in ricordo suo e di Silvano Arieti i servizi pisani e l'associazione L'Alba di cui dirò alcune cose per contestualizzare questa esperienza lo hanno rilevato nel 2010 e da quella data si svolge un'esperienza di vita indipendente nell'ambito del progetto Nuovi Spazi di Vita e come sottoprogetto appunto appartamento Silvano Arieti il progetto Nuovi Spazi di Vita dedicato ad un gruppo di disabili intellettivi medio-lievi che avevano cominciato a frequentare l'associazione L'Alba sia su invio dei servizi sia con accesso diretto ho bisogno della vostra pazienza per contestualizzare un po' appunto questa esperienza e dall'altro dico anche serve e utile in una ricerca di altre tracce diciamo così di Silvano Arieti nella realtà pisana le posizioni scientifiche di Silvano Arieti sono state ampiamente ricordate magistralmente da interventi che mi hanno preceduto e che non sto a ripetere non hanno certamente ottenuto molta rispondenza nell'ambiente accademico pisano e italiano in genere lo dicevano anche i colleghi orientato ad un biologismo accentuato viceversa le sue opere in particolare il manuale di psichiatria edito da Boringhieri nel 1969 è stato un punto di riferimento epocale per una nuova generazione di psichiatri o che stavano affacciandosi alla specializzazione che pure crescevano necessariamente nelle scuole psichiatriche italiane ma impegnati magari anche nei movimenti studenteschi e politici dell'epoca con attenzione alle varie cose che si muovevano nella società italiana attente agli orientamenti e alle esperienze di Basaglia di psichiatria democratica ma anche alla ricerca di basi teoriche ed operative nuove e diverse rispetto a quelle tradizionali e anche a quelle diciamo così più di impronta sociale è stato così a Pisa dove il manuale ha aperto nuovi orizzonti organici teorici e pratici ad un gruppo importante di noi psichiatri e di studenti orientando in alcuni casi le decisioni verso la carriera psichiatrica e poi nella prassi concreta se mi si permette anche a me una notazione personale fu Francesco Barale allora studente a Pisa e diventato poi ordinario a Pavia alla scuola di De Martis ad indicarmi in accede discussione il nuovo testo che mi mostrò un altro modo possibile e più consono a nuove idee sensibilità e fu uno degli elementi che mi portarono alla scelta della specializzazione in psichiatria manuale di psichiatria di Silvano Arieti da un lato versus il trattato italiano in psichiatria di Bini e Bazzi versus l'importazione più francamente sociale dell'istituzione legata di Franco Basaglia soltanto per schematizzare sono stati i sacri testi che hanno animato e sono stati sotto questo confronto questo dibattito che ha avuto risvolti teorici e pratici molto seri elementi appunto di un confronto scientifico e operativo anche sul campo nella costruzione dei centri di igiene mentale e territoriali della riforma a Mariotti del 68 intanto anche a Pisa diretti in una prima fase dalla clinica psichiatrica universitaria poi dal 1975 con una nuova direzione attivata dall'amministrazione provinciale anche con un impegno crescente dell'ospedale psichiatrico di Volterra nel territorio e dopo il 78 nella costruzione dei servizi della legge 180 e poi 833 della riforma sanitaria e dal 1980 all'interno delle unità sanitarie locali alla fine del percorso ovviamente sofferto articolato e oggetto di dibattito amplissimo insomma in tutti questi anni ed ovviamente attraverso aggiornamenti nuovi contributi nel ricchissimo articolato percorso della costruzione dei servizi salute mentale di comunità troviamo a Pisa un dipartimento di salute mentale articolato in unità funzionali adulti infanzia adolescenza di zona a costituire un complesso di attività e funzioni specialistiche multiprofessionali integrate di primo livello dalla prevenzione della cura al livello ambulatoriale domiciliare di comunità al secondo livello di servizio psichiatri di danni di cura le riabilitazioni psicosociali le psicoterapie individuali di coppia familiare di gruppo i servizi per la famiglia il centro per il disturbo del comportamento alimentare è un dato così anche quasi una curiosità gli inserimenti etero familiari che sono stati cioè l'inserimento di pazienti psichiatrici in famiglie altre che accolgono appunto al loro interno il paziente che sono stati a Pisa e a Lucca una realizzazione di riferimento nazionale e che cito perché costituiscono uno dei capitoli del manuale di Silvano Arieti attorno a un'esperienza poco conosciuta poco anche neanche citata nei testi italiani ma che viceversa lì trovava una sua collocazione nel manuale per arrivare a noi non si parla spessamente di autoaiuto non era ancora nato non si era affermato ma a mio avviso sta come naturale sviluppo dell'impostazione di Arieti della sua attenzione alla persona e da Pisa dal 2000 si è costituita l'associazione l'alba dopo un'esperienza nata fondamentalmente nella clinica psichiatrica con la formazione di gruppi di autoaiuto l'uscita nel territorio l'iniziativa e il radicamento appunto nel territorio dei gruppi la proposta ai servizi della figura del fariciteratore sociale cioè di un portatore di disagio o ex portatore di disagio che diventa attraverso anche un processo di formazione un agente di aiuto nei confronti di altri in un rapporto alla pari che è molto fecondo e che sviluppa diciamo così tutta la tematica del self help senza tarla qui a riportare non è la sede non c'è neanche il tempo in un rapporto tra pari con il dipartimento di salute mentale e la regione toscana la costruzione di una rete locale con centinaia di soci e regionale degli utenti i progetti condivisi e finanziati dalla regione e dalla unità sanitaria locale sperimentati e verificati in continuo in progress quello sui facilitatori i laboratori li cito soltanto il circolo con la ristorazione oggi il bagno al mare e il nuovo ristorante soltanto per parlare dei più ne hanno fatto una realtà molto radicata molto forte molto importante collaterale autonoma rispetto ai servizi e che costituisce un'esperienza molto seguita anche al di fuori della nostra realtà tra i progetti dal 2008 nasce nuovi spazi di vita appunto per soggetti dicevo prima con disabilità intellettiva medio lieve che avevano cominciato a frequentare le attività dell'alba sia autonomamente sia inviati dai servizi e che a regime dei progetti sono arrivati a circa 50 persone da questa è nata l'idea e poi l'attuazione anche con l'occasione dell'offerta della comunità ebrarchica dell'appartamento per quattro giovani donne su richiesta delle interessate delle famiglie nell'ottica del dopo di noi ma durante noi ciascuna con un progetto individualizzato che prevede ruoli e momenti condivisi per la tenuta e la vita dell'appartamento ed un impegno esterno di tipo lavorativo supportato o di attività nei laboratori oltre che attività di tempo libero con il supporto da prima più intensivo poi progressivamente meno di un supervisore interno con disponibilità all'urgenza il collegamento e il sostegno alla rete associativa forme di sostegno individuale ed occorrendo di approfondimento psicologico la supervisione periodica del gruppo delle ragazze e delle loro dinamiche interne e la supervisione del gruppo dei familiari circa il loro vissuto passato e presente nella relazione con le figlie ed il sostegno alle dinamiche del distacco l'appartamento è in una zona centrale della città come dicevo al limite della zona pedonale vicino ai servizi il supermercato posto a stazione i tren degli autops è stato ristrutturato e ammobiliato con il contributo delle famiglie di un gruppo volontario di soci dell'associazione l'alba è partito nel giugno 2010 le ragazze e le famiglie contribuiscono direttamente alle spese di affitto di uso e di vita dell'appartamento un po' per limiti di finanziamento regionale ma anche per ridurre dinamiche assistenzialistiche ad oggi nove donne hanno avviato esperienze e compiuto esperienze nell'appartamento due hanno deciso di concludere una è rientrata in famiglia con una nuova consapevolezza ruoli ridefiniti ed è diventata una risorsa di aiuto a fronte di nuove condizioni di bisogno che sono determinate in famiglia una ha deciso di continuare l'esperienza di indipendenza in un appartamento proprio vicino alla famiglia per una l'inserimento non è riuscito due hanno precocemente interrotto quattro attualmente di cui due nel gruppo iniziale del gruppo iniziale lo stanno tuttora continuando le ultime tre inserite hanno problematiche prevalenti di carattere psicologico mi avvia la conclusione permettetemi di citarvi alcuni passaggi di una relazione appunto redatta dalla psicologa che è stata la coordinatrice attiva del progetto l'interesperienza ha avuto delle curve di alti e bassi le diversità caratteriali momenti positivi alternati a momenti di crisi sono stati costantemente monitorati dalla fitta rete creata ad hoc che ha collegato operatori dell'associazione l'alba la psicologa coordinatrice del progetto nuovi spazi di vita la psicologa coordinatrice dell'appartamento i servizi dell'usl 5 l'assistente sociale della famiglia occasione di forti stimoli affettivi di espressione delle proprie opinioni gusti e preferenze soprattutto di confronto con situazioni che richiedono scelte personali autonome è stata rinforzata la capacità di prendere decisioni e la capacità di svolgere attività di propria scelta hanno sperimentato una vita indipendente con la consapevolezza che non è facile e può essere rischiosa ma è un rischio ben più elevato rispetto ad una vita di dipendente le due ragazze che hanno concluso l'esperienza hanno portato con sé stabili miglioramenti circa le capacità pratico-manuali hanno sviluppato le capacità di autoregolamentarsi e di stabilire le proprie scelte in base ai bisogni familiari hanno raggiunto un discreto grado di consapevolezza centrato su attività vere e concrete hanno riconosciuto i propri limiti e le potenzialità gettando solide basi per una più piena maturità affettiva e relazionale l'esperienza di residenza indipendente sta favorendo lo sviluppo psicosociale promuovendo lo sviluppo consapevole dell'identità autonomia e delle competenze correlate alle proprie potenzialità un miglioramento dell'area affettiva maturando una maggiore consapevolezza e coscienza anche degli aspetti fisici della sessualità sono convinto che Silvano Arietti per concludere condiverebbe finalità contenuti e probabilmente anche metodi questa esperienza e che nel complesso gli piacerebbe abbastanza grazie dell'attenzione grazie 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 a Corrado Rossi per aver portato questa esperienza sul territorio direttamente per quanto riguarda l'appartamento di Silvano Arietti continuiamo questa mattinata con Emanuele Rossi della Scuola Superiore Sant'Anna e il titolo della sua presentazione è Oltre le leggi razziali Silvano Arietti e il legame con la comunità ebraica di Pisa Emanuele Rossi grazie buongiorno devo intanto dire che ci allontaniamo un po' sempre di più dal chi mi ha preceduto ha detto che lui non aveva conosciuto direttamente Silvano Arietti e tuttavia era psichiatra io non solo non ho conosciuto Silvano Arietti direttamente ma nemmeno appartengo alle scienze psichiatriche o comunque neurologiche ma sono invece un giurista e sebbene mi veniva da osservare che a volte per comprendere cosa scrivono i nostri legislatori forse qualche conoscenza di psichiatria sarebbe utile ma tuttavia sono abbastanza distante da questo però parlo intanto a nome della scuola superiore di Sant'Anna di cui sono prorettore ma anche vorrei dire del sistema universitario pisano facendo quindi preliminarmente una considerazione di come lo studioso che oggi celebriamo come molti altri ha studiato a Pisa potremmo dire nella comunità pisana complessivamente intesa che non è solo comunità scientifica culturale ma diciamo comunità di vita in questa comunità si è formato e poi ha dispensato il suo sapere nel mondo da Pisa potremmo dire ha respirato il cosmopolitismo Pisa lo ha formato a essere un cittadino capace di vivere nelle varie dimensioni del mondo ecco è un percorso probabilmente comune a molti altri prima e soprattutto dopo Silvano Arieti un percorso che non è stato indotto come invece per Arieti a causa di leggi di cui dirò insomma assurde senza senso ma a causa di altre motivazioni insomma diverse anche di volontarie ecco e credo però al di là di tutto questo come l'università di Pisa le scuole superiori pisane abbiano anche questo compito di svolgere questa funzione che in Arieti ha uno degli esempi più illustri ma che appunto è una delle funzioni proprie del sistema pisano ecco vengo a dire alcune cose sul tema che appunto mi è stato assegnato e su cui ho cercato di raccogliere più notizie informazioni possibili devo dire anche con alcune scoperte personali insomma abbastanza interessanti dunque noi sappiamo che Arieti nasce nel 1914 appunto cent'anni fa nel 1931 nell'anno accademico 31-32 si iscrive all'università di Pisa un'università che era già frequentata da altri ebrei soprattutto stranieri e che anzi vide proprio in quegli anni nell'anno successivo in particolare nel 32-33 ben 1850 studenti stranieri in Italia per lo più proprio studenti in medicina e dall'anno successivo anche studenti provenienti dalla Germania questo afflusso continuò fino agli anni al 1937-38 e tra questi viene richiamato spesso uno studente molto amico di Silvano Arieti Erwin Klein che appunto era venuto dalla Germania per studiare in Italia quindi questo a dimostrazione insomma di come poi le leggi razziali che sono intervenute insomma nel 1938 una serie di provvedimenti che hanno avuto il primo provvedimento il 5 settembre del 1938 ecco siano arrivate in una fase in cui prima c'era stato un ampio afflusso di studenti anche da altri paesi ebrei che venivano a studiare in Italia il giorno prima della laurea nel cioè il 14 luglio del 1938 della laurea di Silvano Arieti uscì il celebre manifesto per la difesa della razza e rileggendolo ecco mi è colto insomma l'attenzione si è concentrata su come probabilmente Silvano Arieti abbia potuto leggere e anche diciamo valutare un passaggio in particolare di questo manifesto in cui si dice un manifesto redatto pare da Mussolini direttamente almeno lui così ha dichiarato ma sottoscritto da importanti scienziati in cui si diceva questo la questione del razzismo in Italia deve essere trattata da un punto di vista puramente biologico senza intenzioni filosofiche o religiose la concezione del razzismo in Italia deve essere essenzialmente italiana e l'indirizzo ariano nordico questo non vuole però introdurre non vuole dire però introdurre in Italia le teorie del razzismo tedesco come sono o affermare che gli italiani e gli scandinavi sono la stessa cosa ma vuole soltanto additare agli italiani un modello fisico e soprattutto psicologico di razza umana che per i suoi caratteri puramente europei si stacca completamente da tutte le razze extraeuropee questo vuol dire elevare l'italiana ad un ideale di superiore coscienza di se stesso e di maggiore responsabilità ecco pensare che appunto ormai un arieti formato pienamente formato il giorno prima della laurea almeno da un punto di vista accademico insomma possa leggere queste cose sulla biologia forse insomma fa pensare a una sua reazione insomma almeno interiore e tuttavia poche settimane dopo diciamo come dicevo il 5 settembre 1938 fu emanato il regio decreto legge numero 1390 che rappresenta il primo dei provvedimenti che vietarono con cui fu vietata la possibilità per gli studenti o per in generale gli ebrei di svolgere una serie di attività e a seguito di questo Silvana Rieti non poter svolgere il suo esame di Stato né conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale che poi invece acquisì successivamente in questa sede deve essere anche ricordato che tra gli diciamo i protagonisti di questa vicenda delle leggi razziali aveva anche un pisano Guido Buffarini Guidi che fu sottosegretario all'INDA al Ministero degli Interni dal governo Mussolini dal 1933 al 1943 ecco Silvana Rieti viveva in questo periodo all'interno di una comunità come quella ebraica di Pisa che era una comunità antica che che aveva avuto dei passati storici anche rilevanti che era diciamo si era sviluppata soprattutto all'epoca della Pisa come Repubblica Marinara e che aveva avuto una forte immigrazione sefardita dalla Spagna e dal Portogallo sul finire dell'Ottocento questa comunità era composta da circa 700 iscritti e aveva avuto anche alcuni personaggi di rilievo nella vita cittadina nel 1906 sindaco fu Alessandro D'Ancona che poi divenne anche senatore che era appunto appartenente alla comunità ebraica e dal 1898 al 1920 fu rettore dell'Università di Pisa David Supini anche gli appartenenti alla comunità ebraica poi ci sono stati altri esponenti insomma i fratelli Ponte Corvo il pittore Daniel Schinasi eccetera ed altri ancora ecco ai tempi poi di in cui Silvano Arieti ha vissuto in questa comunità la comunità era ridotta nei numeri secondo una ricerca che io ho trovato allora erano iscritte 280 persone ma era una comunità molto unita si dice in pratica tutti si conoscono ne fanno parte professori universitari un senatore medici avvocati piccoli e medi commercianti una famiglia di industriali un mendicante cieco un docente di matematica che in opposizione al clima dell'epoca manifesta apertamente la sua omosessualità venditore ambulanti e qualche operaio centro della vita comunitaria è la sinagoga con la sua piccola scuola dove Arieti apprende i primi rudimenti della lingua e della cultura ebraica ecco in questa piccola comunità come diciamo un evento particolarmente forte e anche dirompente arrivano appunto le leggi razziali e che costringono molti insomma a scegliere abbiamo anche sentito come la decisione poi di per qualcuno di partire come Arieti per altri di rimanere pagandone magari delle conseguenze abbia poi prodotto anche delle conseguenze diciamo personali i genitori di Arieti non non erano intenzionati a partire pur appartenendo ad una fascia colta e agiata dalla popolazione volevano che a partire fosse il figlio ma non avevano loro stessi dove andare e poi avevano tutta la fatica insomma che è tipica insomma di chi magari ha superato una certa fase della vita di dover ricominciare una vita nuova da un'altra parte e però appunto si rese conto Silvano Arieti che per salvarsi bisognava andare lontano in America dove però era difficile entrare e la zia Yolanda alla quale poi dedicò il libro Arieti insieme allo zio Giampaolo che per gli anni dell'elementare aveva accompagnato Arieti il primo giorno di scuola avevano trovato la via di farlo uscire e migrare attraverso la Svizzera e appunto lì partì da lì partì ecco sono andato a vedere così per curiosità quali altri alcuni degli altri molti altri esponenti della comunità ebraica pisana e in generale italiana sono dovuti partire a seguito di queste leggi razziali e numerosi docenti sono stati espulsi dall'università di Pisa molti devo dire la maggioranza dalla facoltà di medicina come ad esempio Salomone Enrico Emilio Franco che traccia questo bel significativo ritratto insomma della fatica anche di dover appunto cambiare vita improvvisamente il tempo passa scrive appunto Emilio Franco ed è necessario che trovi un posto rimunerato in modo tale che permetta di far vivere le due persone che vivono con me mia sorella e mia cugina già insegnanti nelle scuole medie per la stessa discriminazione rimangono prive del posto che hanno ricoperto fino ad ora io che nelle università italiane ero professore di una disciplina pura l'anatomia patologica guadagnavo soltanto il modesto stipendio sicché non avendo alcun bene di fortuna presto ci verremo a trovare in misere condizioni tanto più che in non molti anni di servizio mi daranno diritto solo al minimo della pensione si impone perciò che al più presto abbia in una qualche parte del mondo un ufficio ritribuito e quindi si lasciò l'università di Pisa e si trasferì emigrò a Gerusalemme dove disse farsi una vita nuova in un paese nuovo all'età di 57 anni non è facile né agevole né sorridente ma la necessità è legge suprema e non discutibile affronterò ogni sacrificio e ogni dura fatica con l'indispensabile coraggio ecco questo era un professore della facoltà di medicina che appunto fu costretto anche egli a emigrare ma vi sono ripeto nonostante la maggior parte fossero medici però vi sono anche alcuni non medici tra questi va ricordato in questa sede in cui siamo la scuola normale un lettore di lingua tedesca il quale paradossalmente ma forse non solo era già fuggito dalla Germania per venire in Italia a lavorare a causa appunto delle persecuzioni razziste per evitare le persecuzioni razziste e fu costretto nel 1939 anche egli a imbarcarsi verso gli Stati Uniti e a lasciare appunto questa università dove era lettore di tedesco poi negli Stati Uniti divenne un affermato storico della filosofia o così come ad esempio un altro dell'università di Pisa di quel periodo un giurista che conosco un po' più da vicino che era Renzo Bolaffi il quale peraltro non fu una vicenda un po' più particolare perché egli fu sostanzialmente bocciato a un concorso per il professore ordinario esclusivamente per ragioni razziali perché secondo tutta la scienza la comunità scientifica egli avrebbe sicuramente meritato e allora egli prese con sdegno questo e rifiutò da allora qualsiasi incarico all'università di Pisa e divenne presidente dell'ente carta e cellulosa con cui si manteneva da vivere ecco questo quindi ci fu da Pisa un fuoriuscita di molte persone in quel periodo e ho provato a vedere chi tra questi è andato come Silvano Arieti a New York perché ho immaginato che magari questo provenire dalla stessa città dalla stessa comunità religiosa essere portato in un'altra esperienza lontana abbia potuto consentire diciamo in qualche modo di respirare la stessa aria ecco se non di avere dei rapporti personali diretti e cito solo alcuni nomi che potrebbero avere avuto diciamo questo questo tipo di legame Salvatore Edoardo Luria che è stato un biologo e che è stato premio Nobel per la medicina nel 1969 che gli emigrò dall'Italia raggiunse New York dove raggiunse Enrico Fermi alla Columbia University dove poi ebbe grazie a lui alcune poi la possibilità appunto di sviluppare le sue ricerche ma anche il matematico Guido Fubini che proprio in questa scuola la scuola normale superiore studiò con Ulisse Dini e Luigi Bianchi si laureò qui e poi a causa delle leggi razziali fu costretto ad abbandonare l'Italia e si rifugiò all'Università di Princeton e muore a New York ma ancora dobbiamo ricordare un altro premio Nobel questa volta per l'economia Franco Modigliani che anche egli dovette abbandonare diciamo ancora non era professore mi pare ma comunque dovete abbandonare l'Italia per raggiungere gli Stati Uniti e interessante perché appena arrivato a New York evidentemente non aveva di che sopravvivere dignitosamente allora mise in piedi un negozio di libri insomma dei banchetti di libri con cui vendeva libri per potersi mantenere poi dopo ha avuto spazio nell'ambito della ricerca scientifica e quindi è probabile ecco che di questi di questi personaggi di questi e di altri personaggi ci sia stato un certo qualche collegamento con Silvana Arieti e forse mi piacerebbe anche pensare che Arieti abbia potuto diciamo festeggiare insieme a Mario Castelnuovo tedesco che è un celebre pianista e compositore uno dei maggiori compositori italiani nel quale anche egli a causa delle leggi razziali fu costretto a lasciare l'Italia nel 1939 con la sua famiglia e grazie all'aiuto che gli offrì soprattutto Arturo Toscanini ma anche altri si trasferì prima a New York dove proprio nel 1939 al suo arrivo poté esibirsi come solista al pianoforte per la prima esecuzione del suo concerto numero due per pianoforte con la New York Philharmonica Orchestra e non so ma sarebbe bello pensare che Silvano Arieti abbia potuto partecipare anche a questo concerto ecco qual è stato poi il il rapporto che Arieti ha mantenuto con Pisa e con la comunità ebraica di Pisa sicuramente ha mantenuto avrà mantenuto dei regami anche con gli ebrei del luogo con i New York e con quelli lì emigrati però ha mantenuto viva la memoria della comunità pisana che aveva lasciato molti hanno già ricordato il Parnas poi dopo di me ne parleranno assai meglio altri ma è interessante questo fatto che egli scriva un libro pubblico un libro nel 1979 su fatti avvenuti nel 1944 cioè più di trent'anni prima e egli afferma nello scrivere questo libro che queste sono testimonianze raccolte frutto di conoscenza personale e di ricordi con il Parnas con Roques proprio ci sono due espressioni del libro che mi hanno particolarmente colpito in questo senso quando dice a un certo punto ho accertato la verità della maggior parte dei fatti esposti il che vuol dire che questo accertamento è durato per quasi trent'anni in questi trent'anni egli ha continuato a verificare la veridicità di quei fatti avvenuti trent'anni prima e ancora nei trent'anni e più trascorsi quelle parole ascoltate hanno risuonato nella mia mente è quasi appunto che quel ricordo originario abbia poi insomma vissuto con lui ecco costantemente nel in questo lungo esilio diciamo dalla comunità pisana questo è tipico peraltro ho trovato insomma tipico di altri esponenti ho trovato ad esempio la storia interessante di un professore ebreo pisano che anche egli fu costretto dalle leggi razziali ad abbandonare l'università di Pisa in particolare la clinica di ostetricia e ginecologia Renzo Toaf che emigrò a Gerusalemme dall'altra parte per così dire dei punti cardinali ma anche egli che pur veniva da Livorno non ha mai cessato una volta diciamo abbandonata la comunità di pensare di essere vicino alla sua comunità religiosa tant'è vero che egli ha scritto dopo molti anni un libro sulla nazione ebrea a Livorno e a Pisa scrivendolo da Gerusalemme insomma dove era andato dopo molto tempo ecco un percorso analogo simile a quello che ha fatto mi pare a Rieti con il Parnas dopo molto tempo si scrive un libro sull'esperienza pisana ecco ma non è solo però dal Parnas che noi possiamo trarre l'idea insomma che il collegamento con la comunità ebraica sia rimasto in lui soltanto diciamo un collegamento di riflessione di pensiero appunto di questa verifica dei fatti allora accaduti in una bella commovente toccante relazione che il figlio ha tenuto in un convegno organizzato qualche anno fa da Rita Bruschi di cui la stessa mi ha fatto gentilmente omaggio c'è questa bellissima relazione del figlio devo dire che appunto racconta tutto questo suo rapporto con il padre di una grande intensità ma c'è un passaggio di questo che vi vorrei richiamare in conclusione e gli dice per mio padre sebbene avesse viaggiato per tutto il mondo dal Cile al Giappone il suo paese era sempre Pisa quando la sinagoga di Pisa il legame che egli mantenne con la comunità ebraica di Pisa quando la sinagoga di Pisa ebbe bisogno di soldi si adoperò fortemente per procurare denaro in America e ciò fu importante per tutta la nostra famiglia perché in fondo la sinagoga di Pisa era diventata anche la nostra sinagoga per dire appunto il mantenimento di questo legame profondo con la comunità pisana da cui è nato ecco io credo che davvero per concludere questo sia un messaggio che vale anche per l'oggi insomma vale anche per il futuro perché in fondo questo è ciò che avviene per molti probabilmente se non per tutti il legame che si crea nel periodo della formazione segna e rimane nella vita di ciascuno ecco questo ritorno diciamo a quello che dicevo all'inizio è un fondo un po' anche la potenzialità di Pisa la risorsa che Pisa ha con la sua università e con il suo sistema universitario complessivo che ha avuto in Silvana Rieti un eccezionale esempio per di crescita e poi anche di mantenimento del legame ecco ma che credo sia compito di tutti noi insomma delle istituzioni universitarie che io qui indegnamente rappresento di valorizzare e di far crescere grazie grazie a Emanuele Rossi per queste sue considerazioni storico-sociali che hanno ci hanno fatto rivivere momenti importanti anche della vita stessa delle istituzioni pisane grazie ancora io passerei a Ilaria Pavan della scuola normale superiore Ilaria Pavan ci parlerà del il Parnas Silvana Rieti e il Parnas buongiorno a tutti e innanzitutto un ringraziamento agli organizzatori di questa iniziativa in particolare al professor Corsini e a Rita Bruschi che hanno avuto fiducia nell'invitarmi pur essendo anch'io come chi mi ha appena preceduto completamente digiuna di questioni psichiatriche psicoanalitiche mi è stato affidato come compito quello di ricordare il legame e analizzare insomma il rapporto tra Silvana Rieti e il Parnas molti tra i relatori che si sono succeduti fino a questo momento hanno già più volte citato il Parnas e ricordato la sua importanza e quindi perdonerete l'inevitabile sovrapposizione di alcune citazioni di alcune argomentazioni rispetto a quello che avete già in parte ascoltato il Parnas è scritto a soli due anni dalla scomparsa di Silvana Rieti nel 1981 appunto quindi ne costituisce una delle sue ultime e per forse anche proprio per questo aspetto più significative opere la prima versione scritta originale in inglese esce nel 1979 con il titolo The Parnas A Scene from the Holocaust il Parnas una scena dall'olocausto è tradotta l'anno successivo in italiano uscirà per Mondadori infatti nel 1980 prima di tutto cosa significa Parnas non è detto che tutti lo abbiano così chiaro in mente è una parola ebraico sefardita che significa capo leader e designa quindi la guida non spirituale di una comunità ebraica e il Parnass in questione era appunto Giuseppe Pardo Roques figura di grande spicco dell'ebraismo non solo toscano ma anche direi italiano della prima metà del novecento che fu appunto il presidente la guida della congregazione israelitica pisana una prima volta dal 1907 nel 1910 e poi dai primi anni venti sino alla sua tragica scomparsa il primo agosto appunto del 1944 in una pisa ancora sotto occupazione o per meglio dire tagliata in due dall'occupazione a Tramontana dove appunto il Parnass risiedeva c'erano ancora le forze nazifasciste a mezzogiorno c'erano già gli alleati che infatti avrebbero poi definitivamente liberato la città poche settimane dall'eccidio di Pardo Roques e dei suoi ospiti il testo racconta in maniera molto personale in maniera romanzata direi metastorica ma su questo poi torneremo l'eccidio appunto perpetrato da un gruppo di nazisti introdottisi nella mattina del primo agosto 1944 nell'abitazione nel palazzo di via Sant'Andrea di Pardo Roques e eccidio che causò la morte oltre dello stesso Pardo Roques dei suoi ospiti altre 11 persone 6 erano ospiti altri ebrei rifugiatisi pisani e non pisani che avevano trovato accoglienza già da varie settimane nella casa di Pardo Roques e poi furono uccisi anche 5 cristiani se vogliamo fare questa conta in termini brutalmente religiosi che si trovavano alcuni di loro per puro caso all'interno dell'abitazione ma perché Pardo Roques si interessa a questa vicenda tanto da deciderne di farne una scusate Pardo Roques ovviamente Silvano Arieti qui il lapsus invocato subito si interessa a questa vicenda tanto da deciderne appunto di farne il protagonista di una delle sue ultime opere Silvano Arieti aveva ed ha quindi nel momento in cui scrive un rapporto ancora molto personale molto profondo con i fatti che narra e in particolare con il protagonista il Parnas sebbene appunto come già ricordato in precedenza Arieti non fu neppure indirettamente testimone di quegli eventi perché era già da 5 anni negli Stati Uniti è dunque una vicenda di cui Arieti viene a conoscenza solo a guerra conclusa e passeranno peraltro altri 35 anni e questo è un dato significativo su cui vorrò poi tornare in conclusione perché Arieti decida di affrontarla nuovamente e di metterla faticosamente sulla carta qual è la natura del rapporto così intimo e così personale che lega Arieti alla vicenda di Pardo Roques e al tragico destino di Pardo Roques oltre al fatto che Silvano Arieti conosceva molto bene frequentava la casa del Parnas stimava il Parnas persona di grande cultura con cui aveva frequenti incontri Arieti riconobbe in Pardo Roques uno delle motivazioni più forti che lo spinsero definitivamente verso la psichiatria e la psicanalisi la scelta quindi definitiva convinta della sua carriera la sua vocazione scientifica si lega a quanto dice lo stesso Arieti a questa precisamente a questa vicenda Pardo Roques e questo è un fatto reale era affetto infatti da una grave forma di nevrosi che sin dall'età giovanile lo affliggeva una invalidante forma di licofobia e cinofobia quindi paura dei cani e dei lupi ma in generale poi una paura per gli animali dai quali appunto si sentiva minacciato in continuazione paura fobia che lo aveva costretto quindi a condurre una vita di fatto mutilata e circoscritta alle mura della sua stessa abitazione luogo in cui si sentiva un po' più sicuro e che non riusciva quindi ad abbandonare Arieti desiderava in qualche modo capire le ragioni profonde di questa fobia in termini psichiatrici psicoanalitici Pardo Roques aveva già tentato un approccio psicoanalitico con Edoardo Weiss quindi un tentativo di spiegazione freudiana dalle sue fobie che non l'aveva convinto e quindi non era uscito guarito da questo primo approccio con la psicanalisi e sperava riconoscendo in questo suo figlioccio che si stava approssimando agli studi di psichiatria che un giorno proprio Arieti avrebbe potuto guarirlo e questa mutua riconoscenza questa mutua speranza che è stata già invocata in precedenza nel rapporto paziente medico credo sia esemplificata nel testo dal dono che Pardo Roques fa ad Arieti di un testo in quegli anni fondamentale di Enzo Bonaventura un altro psichiatra centrale nella storia della psichiatria di quegli anni un altro ebreo pisano e toscano e Pardo Roques dona appunto che penso sia il testo del 38 la psicanalisi di Enzo Bonaventura ad Arieti Arieti lo porta con sé negli Stati Uniti e vorrebbe un giorno restituirlo al suo legittimo proprietario in una sorta appunto di simbolica guarigione che passa anche attraverso il dono di questo libro questo quindi è il primo livello di interesse diciamo fattuale in qualche modo anche professionale che lega Arieti alla vicenda del Parnasse che però quando è scritta sulla carta è raccontata e interpretata nelle pagine di questo romanzo in una prospettiva che va oltre insomma la circostanza iniziale dal quale muove è una prospettiva appunto in chiave simbolico psicanalitica e direi che questa è la lettura che lo stesso Arieti poi esplicita con forza nell'appendice del romanzo che da questo punto di vista secondo me costituisce il cuore stesso del testo ma la vicenda è anche raccontata sotto un'altra prospettiva da una parte appunto quella psicanalitica simbolica ma dall'altra e qui forse fa piacere ricordarlo direi perché non è ancora forse emerso nelle discussioni che abbiamo avuto questa mattina emerge anche una forte chiave religiosa mistico religiosa in tutto il romanzo che testimonia evidentemente anche di un profondo legame di Arieti con l'ebraismo che riemerge attraverso la narrazione romanzata molti sono infatti i riferimenti religiosi che puntellano il romanzo a cominciare dai due esergo messi all'inizio appunto il salmo 23 il famoso salmo 23 io non temerò alcun male finché tu sei con me e Isaia una citazione da Isaia Isaia 17-16 la metafora delle olive della pianta di olivo che infatti torna più volte infatti nel romanzo cioè le olive che nonostante la tempesta alcune poche riescono a rimanere attaccate ai rami e quindi a proseguire la vita della pianta chiara metafora simbolica dell'ebraismo che sopravvive riesce a sopravvivere a tutte le catastrofi a cui va incontro nella storia ma in generale poi sono molte altre i riferimenti di carattere mistico religioso che caratterizzano il romanzo altre citazioni da Ezechiele Abba Cuc Isaia e soprattutto direi la connotazione che la casa di Pardo Roques assume come casa in cui alberga la Shekinah che si incarna poi nello stesso Pardo Roques la Shekinah è un termine ebraico religioso che significa più o meno la presenza del divino la presenza divina e la casa di Pardo Roques appunto è una casa in cui alberga il divino e i profeti che vengono spesso citati nel romanzo in qualche modo si legano anche alla figura profetica che lo stesso Pardo Roques assume di cui poi dirò qualche ulteriore aspetto nel finale sarà dunque la fobia di cui è affetto Pardo Roques che lo costringerà a rimanere a Pisa perché appunto impossibilitato dalle sue paure ad allontanarsi da casa e in questo modo quindi a causa della sua fobia il destino tragico di Pardo Roques si compie si compie in tutti i sensi perché l'arrivo dei tedeschi e il male che questi incarnano e rappresentano nella visione naturalmente di Arieti costituiranno per Pardo Roques l'epifania che nel momento finale drammatico del confronto tra Pardo Roques e i suoi Aguzzini lo porterà a capire porterà a capire che i lupi i cani gli animali di cui da tutta una vita si sentiva oppresso e minacciato altro non sono che alcuni dei suoi stessi simili quindi in questa epifania finale in cui capisce la ragione fondamentale delle sue fobie catarticamente in qualche modo Pardo Roques guarisce pur andando incontro con questa catarsi anche al compiersi del suo destino e la morte ma in una vicenda che almeno dà un senso alla sua stessa esistenza e gli permette finalmente di capire il senso stesso della sua esistenza direi che quindi sempre rimanendo a questa lettura simbolica psicoanalitica Arieti ha voluto qui sottolineare la grandezza che a volte è implicita e la capacità profetica che talvolta è implicita nella malattia mentale che può racchiudere ed esprimere anche parte della spiritualità dell'uomo quindi la visione di una malattia mentale come produttrice anche di valori o secondo una prospettiva tra molte virgolette creatrice che si rifà anche appunto a passi dell'esperienza professionale se ho ben capito dello stesso Arieti non solo Arieti ha voluto con questa vicenda sottolineare e con il racconto di questa vicenda sottolineare il nesso tra la malattia personale e individuale la tragedia personale e la malattia e la tragedia collettiva sociale che ha rappresentato il nazismo e l'antisemitismo portato avanti appunto dai nazifascisti questa quindi credo sia la lettura che Arieti ha voluto dare al suo testo non credo che nelle intenzioni dell'autore nonostante appunto nelle prime pagine Arieti indulga nel dire che ha raccolto testimonianze informazioni dicevo nonostante questo non credo che Arieti volesse fare di questo romanzo un romanzo storico che romanzo storico infatti non è per chi volesse invece affrontare la vicenda Pardorocques da una prospettiva di questo tipo ricordo appunto che molti anni dopo il testo di Arieti relativamente pochi anni fa nel 1996 Carla Forti una storica ha riaffrontato il caso appunto il caso Pardorocques il volume che è uscito nel 96 con i metodi gli strumenti gli obiettivi la prospettiva propria di una ricerca storica e di una storica il Parnasse quindi non è un romanzo storico per varie ragioni non è un romanzo storico perché edulcora direi e lascia sotto traccia non detti non esplicitati molti aspetti anche non sempre lusinghieri direi della figura di Giuseppe Pardorocques e della comunità ebraica pisana sotto il fascismo con legami e compromessi ormai accertato dalla storiografia che si sa caratterizzarono inevitabilmente i rapporti tra fascismo e comunità ebraiche durante appunto il ventennio anche dopo l'emanazione delle leggi razziali e il fatto stesso che Pardorocques riuscì praticamente a vivere quasi indisturbato dal 38 al 44 rimanendo nella sua abitazione e continuando a fare quello che faceva è una diretta in testimonianza dei suoi buoni rapporti inevitabilmente con le autorità fasciste locali che gli permisero di arrivare appunto fino al 44 il Parnas non è un romanzo storico perché Arieti non è di fatto interessato a conoscere per quali motivi chi spinge i nazisti a introdursi nella casa di Pardorocques nel mattino del primo agosto 44 la verità giudiziaria non interessa Arieti non è quello su cui lui si concentra ci sarà infatti un processo nel 46 alla corte d'assisi di Firenze contro un presunto della torre italiana un vicino di casa così si disse che sembra appunto avesse fatto la spia ai nazisti indicandogli la casa in cui abitava Pardorocques e i suoi ospiti ebrei ma ripeto questo non è questo non è l'interesse di Arieti infine il Parnas non è un romanzo storico perché il nazismo è rappresentato e visto come l'espressione l'incarnazione appunto di un male assoluto inconcepibile che sembra quindi trascendere ogni umana possibilità di comprensione e di spiegazione e non è quindi visto e considerato come un fenomeno storico quale esso fu storicamente collocato storicamente contestualizzabile e contestualizzato ma è appunto considerato in una prospettiva del tutto metastorica e tuttavia nonostante queste mie premesse per cui il Parnas non può essere definito un romanzo storico da storica posso dire mi avventuro nel dire che ci sono alcuni elementi che consentono ormai oggi di inserire il Parnas all'interno della storiografia della Shoah e sulla Shoah e permettono di considerarlo di per se stesso dunque non per quello che racconta o per come lo racconta un documento storico a se stante cosa voglio dire il primo elemento che ha a che fare con questa possibile storicizzazione del Parnas ha a che fare con la distanza cronologica che ho appunto già accennato prima oltre 35 anni tra la vicenda narrata e il momento in cui Arietti decide di raccontarla gli storici lo sanno che in qualche modo è sempre necessario un lasso di tempo anche ampio anche in termini di decenni per affrontare storicamente un avvenimento e per cercare di spiegarlo e contestualizzarlo ma soprattutto questa distanza personale che lega Arietti dai fatti raccontati noi ormai sappiamo che per molti anni e per molti sopravvissuti dalla Shoah in Italia come altrove occorsero decenni prima di poter riparlare di quello che era successo i protagonisti della persecuzione razziale e sicuramente Arietti lo fu perché costretto dalle leggi del 38 a lasciare affetti famiglia lavoro patria e inventarsi una vita diversa dicevo i protagonisti e i sopravvissuti della Shoah per molti decenni preferirono tacere le ragioni di questo silenzio che gli storici hanno indagato a lungo negli ultimi anni sono molte sono molte complesse e in questa sede non mi è possibile ricostruirle e ripercorrerle certo che anche l'esperienza personale di Arietti sembra inserirsi in questo complessivo silenzio che ha avvolto per molti anni la storia della persecuzione e che ha avuto bisogno di decenni per essere superato nel caso specifico ma è già stato accennato ma lo sottolineo di nuovo mi sembra evidente che ci sia da parte di Arietti anche appunto un senso di colpa tipico del sopravvissuto che impedisce nell'immediato di affrontare storicamente o anche da un punto di vista emotivo il trauma appena vissuto e infatti nell'introduzione che è già stata citata quindi non la citerò nuovamente dice a un certo punto questo non è un romanzo scritto con l'inchiostro ma è un romanzo scritto con il sangue a testimoniare il coinvolgimento emotivo che lui mette in questa sua opera ma il secondo elemento collegato peraltro a quello che ho appena ricordato che permette di storicizzare il Parnas riguarda più in generale la riscoperta dell'ebraismo e della Shoah che si verifica a livello non solo italiano ma è un fenomeno transnazionale che comincia dagli Stati Uniti e poi coinvolge di fatto tutta l'Europa e anche l'Italia dicevo di riscoperta dell'ebraismo e della Shoah che avviene proprio negli anni in cui Arietti scrive il Parnas anche in questo caso le ragioni di questa riscoperta della Shoah e dell'ebraismo sono molte sono molto complesse ma si verificano proprio in quel lasso di tempo siamo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 gli anni 80 segnano letteralmente a livello storiografico ma anche mass mediatico l'esplosione di interesse verso l'Olocausto e vi ricordo solo per rimanere citare alcuni pochi casi relativi allo scenario italiano che è nel 79 per esempio che la RAI trasmette la miniserie americana Olocausto andata in onda negli Stati Uniti solo l'anno prima nel 1980 la casa editrice fiorentina La Giuntina specializzata in studi e ricerche sull'ebraismo decide di tradurre il capolavoro di Elie Wiesel la notte e ancora per restare all'ambito psicoanalitico è il 1982 quando Cesare Musatti dà alle stampe la propria autobiografia con mia sorella gemella la psicanalisi in cui ripercorre anche le sue personali relazioni con l'ebraismo e con le persecuzioni razziali e infine l'86 l'anno in cui dopo dieci faticosi lunghi anni di gestazione Primo Levi dà alle stampe l'ultimo testo I sommersi salvati che opera che come sapete indaga sulla natura del male sulla natura dell'uomo e che quindi anche in questo senso si può ricondurre almeno in parte ai temi e alle problematiche che Arieti ha voluto trattare nel Parnas dunque è in questo senso direi se considerato in questa prospettiva storiografica nazionale e trasnazionale di riscoperta quindi della Shoah che il Parnas pur non volendo essere e pur non essendo un'opera storica credo che oggi possa a sua volta essere in qualche modo storicizzato e vi ringrazio grazie a Ilaria Pavanna per questa sottolineatura dell'estrema policromia di questo romanzo di questo straordinario romanzo bene grazie ancora e passiamo a Giuseppe Panella Giuseppe Panella della Scuola Normale Superiore che parlerà delle radici umanistiche del pensiero di Silvano Arieti prego io mi dice Rita Bruschi di sottolineare che alla fine di questa presentazione ci sarà un brindisi per festeggiare ovviamente per dar luogo a questo festeggiamento e quindi rimanete per questo brindisi che permetterà anche una nostra interazione e continuare magari i commenti sulle presentazioni di oggi prego a Giuseppe Panella allora buongiorno prima di tutto anzi anche se la prima parte della giornata sta finendo e io ringrazio Giovanni Umberto Corsini e soprattutto Rita Bruschi per avermi invitato a parlare di Silvano Arieti perché in effetti io non sono né uno psichiatra né uno psicologo e non sono nemmeno uno storico contemporaneo sono uno studioso di estetica in realtà di estetica in realtà questa cosa non sembrerebbe entrarci niente con Arieti e con la sua produzione in realtà io stesso mi sono accorto invece della profondità e della intrinseca importanza e necessità di studiare di verificare di analizzare la dimensione umanistica all'interno del pensiero di Silvano Arieti a differenza degli illustri relatori che mi hanno preceduto soprattutto Marco Bacciagalupi ma anche Pazzai che hanno avuto rapporti di dimestichezza profonda con Arieti io posso soltanto citare una presentazione qui pisana del Parnasse nell'80 al quale partecipai in cui ricordo vagamente di aver intravisto la figura di Arieti che era venuto in Italia a presentare il suo romanzo allora tradotto non da lui per Mondadori e il punto interessante era che appunto Arieti apparve come una persona di straordinaria capacità ma anche di una straordinaria modestia e di una straordinaria umanità ma non parlerò tanto del Parnasse perché ne ha parlato già la collega Pavane quello che mi sembra invece interessante dire è che appunto Arieti aveva competenze e conoscenze umanistiche che andavano molto al di là delle competenze delle conoscenze che tradizionalmente in quegli anni si aveva attraverso lo studio liceale studi licee classici abbastanza severi eccetera ma Arieti aveva un interesse che andava al di là questo spunto mi è stato fornito da quello splendido necrologio che Baggiacalupi ha scritto su Arieti e in cui testimonia di una volontà pare iniziale di Arieti di darsi agli studi umanistici cioè di studiare appunto non medicina ma probabilmente lettere e che lo accomunava allo stesso Baggiacalupi che aveva volontà probabilmente anche lui di darsi agli studi umanistici e poi aveva optato per la medicina se si va a leggere depressione grave e lieve dove grave traduce il più diciamo il più minaccioso termine sever inglese si troverà un capitolo scritto in parte con Giuse Bemporad di cui una sezione è sicuramente attribuita attribuibile ad Arieti per sua stessa dichiarazione che racconta le radici socioculturali della depressione ora purtroppo il tempo è tiranno inoltre non vorrei annoiare il pubblico che è già stato sottoposto ad altre relazioni ma ci sono dei punti che mi sembrano peculiari della personalità di Arieti in uno dei capitoli il secondo del paragrafo di questo capitolo si parla del perché si cerca di spiegare di dare un'eziologia del perché le donne siano maggiormente sottoposte alla depressione perché si siano più donne malate di depressione e altre in realtà Arieti fa ovviamente delle dichiarazioni fa uno studio fa un'analisi basata su statistiche su punti di riferimento clinici eccetera eccetera ma a sorpresa devo dire con mia grande sorpresa uno dei punti di riferimento sulla condizione della donna nella società occidentale a partire dall'ottocento ma a tutto il novecento è straordinariamente l'opera lirica Arieti si rifà l'opera lirica e spunta fuori un ricordo personale in un manuale in cui Arieti si dichiara non solo di essere stato appassionato di opera lirica negli anni giovanili di aver ascoltato opere liriche in un'opera giovanile quindi probabilmente qui a Pisa al Teatro Verdi ma di aver avuto per anni o di continuare ad avere un abbonamento al Metropolitan Opera House cioè essere quindi un appassionato di opera lirica a tal punto da avere un abbonamento a New York a Metropolitan e dimostra una competenza e una conoscenza dei libretti d'opera di cui poi lui stesso è costretto a mettere la poca valenza letteraria cioè anche la loro se volete stupidità rispetto alla bellezza straordinaria della musica che poi illustra e dimostra fa una specie di analisi dei personaggi femminili all'interno dei libretti in cui risultano sei tipologie che non vi leggo ma che appunto sono interessanti per cui le donne nei libretti d'opera o sono ingenue è un po' stupide o sono dice lui poco di buono oppure sono sfortunate non ci sono donne felici non ci sono donne volitive non ci sono donne capaci di prendere in pugno la situazione sono tutte vittime della situazione e quindi sono soggetti depressi cioè sono tipicamente soggetti depressi c'è un'analisi molto bella di questo che vi invito a leggere appunto se il libro sarà ristampato cosa che finora non è accaduto e inviterei Baggiacalupi a farsi promotore di una ristampa del libro che lui stesso ha tradotto e perché sono queste figure dice l'unica donna interessante da un punto di vista caratteriale che noi troviamo nell'opera lirica è quello di Minni nella fanciula dell'Ouest di Giacomo Puccini che però purtroppo non è tra le opere migliori di Puccini pur essendo questo personaggio forte infatti decide tra due tra un cowboy però l'opera lirica non è tra le più riuscite sono molto più riuscite altre opere liriche in cui invece il personaggio femminile è schiacciato o dalla sua stessa volubilità volessi proporre come soggetto sedutivo oppure dal destino oppure dal non essere stati capaci questo personaggio per esempio nella luce di Lammermour di Donizetti addirittura alla fine la protagonista femminile esplode in quella che viene chiamata dagli esperti di opera lirica la scena della pazzia in cui luce di Lammermour esplode e uccide il marito imposto dal fratello quindi abbiamo da un lato una conoscenza notevole ripeto che farebbe fa invidia anche agli appassionati di lirica come io mi ritengo perché appunto c'è questa analisi dei personaggi che è veramente importante ma c'è di più Arieti ha competenze notevoli anche nel campo della sociologia della conoscenza e degli studi socioculturali fin dall'inizio di questo capitolo si pone sotto legida di Gian Battista Vico San Battista Vico e sostiene che il primo nella storia del pensiero a sostenere che ogni epoca storica alla propria modalità di pensiero di funzionamento specifico è stato Vico quindi si pone in un'ottica di tipo storicista mentre rifiuta invece quelle analisi di tipo istintuale biologistico o comunque legato alla istintività della risposta rispetto alla società che individua e questo per me è stata una sorpresa assoluta cioè che Arieti conoscesse Vilfredo Pareto sostiene che Pareto sbaglia nel considerare il pensiero le idee come un derivato c'è questa teoria per Pareto la società si basa su motivazioni di carattere o economico o fisico mentre invece le idee sono un derivato di queste e lui nega appunto che Pareto abbia ragione e annuncia anche sostiene anche che Freud che è sulle stesse posizioni di Pareto e quindi crea un postulato un rapporto tra Freud e Pareto anche lui sbaglia nel pensare che le idee non abbiano importanza nella costruzione della soggettività e della capacità di rapporto tra l'uomo e la società inoltre e questo che poi mi intriga maggiormente a parte queste considerazioni di carattere generale sull'opera lirica e sulla sociologia della conoscenza è il rapporto che ha con la letteratura conoscenza profonda e approfondita non solo della letteratura diciamo tradizionale ma anche di autori e anche questo io non so dove diavolo abbia trovato questi libri come abbiamo voluto leggere questi autori che sono poco noti e che non si studiano nemmeno o forse allora si studiavano oggi non si studiano più a scuola per descrivere la personalità e l'atteggiamento del depresso grave arieti si rifà a un'opera di un poeta napoletano che è importante ma importante fino a un certo punto Jacopo San Nazaro e alla sua Arcadia in cui la fuga degli dei degli dei pagani dall'Arcadia appunto l'abbandono del grande Pan è descritto con i caratteri tipici della desolazione e dell'abbandono e cita letteralmente dall'Arcadia quindi conosce il testo che non è un testo che si trovi frequentemente nemmeno oggi e lo cita come punto di riferimento così come cita altri autori diciamo per certi aspetti più noti la sua cultura non sembra in quel capitolo quella di uno psichiatra tradizionale assolutamente conosce autori della letteratura francese importanti come De Mousset come Hugo però cita anche il rapporto tra poeta romantico e società in un autore meno forse all'epoca più letto oggi credo completamente negletto come l'Arfonse de Lamartin che in un suo testo appunto descrive il poeta romantico abbandonato dai suoi sogni di gloria mentre invece la società si dedica maggiormente all'attività commerciali ed economiche come un punto di riferimento per la descrizione della della depressione ma c'è anche di più il genere letterario che io credo di poter considerare più importante per Arieti è la tragedia non solo la tragedia greca ma anche la tragedia moderna quindi Shakespeare di cui cita Amleto cita Macbeth cita King Lear ma quello che è interessante è che lo fa non tanto sulla base di una conoscenza di opere diciamo che dovrebbero far parte del bagaglio fanno parte sono ottimista da questo punto di vista che fanno parte del bagaglio di ogni persona colta lo fa attraverso la conoscenza e le analisi di un testo che io sfido i non diciamo studiosi di filosofia a aver letto o comunque a conoscere con l'accuratezza con cui la conosce Ariete nel corpus aristotelico sicuramente pseudo aristotelico uno dei testi più diciamo letti nel medioevo è il cosiddetto volume dei problemata che sono una serie di aggiunte all'opera aristotelica uno di essi problemata 31 è il più noto perché è noto diciamo è stato tradotto anche nell'edizione italiana come la melanconia la malinconia dell'uomo di genio è una spiegazione del perché i uomini di genio i uomini superiori quelli che hanno una sono su una spanna più su rispetto agli altri siano però sottoposti o soggetti a crisi di depressione o di esaltazione il perché cioè la spiegazione è legata alla medicina ipocratico galenica e alla teoria degli umori quella che poi comparirà in tutta la sua grandezza anche in Jung non nei tipi psicologici jungiani per cui nei uomini di genio c'è una sovrabbondanza di bile nera la bile nera provoca la melanconia e quindi l'accesso di furore questa cosa è assolutamente diciamo al di fuori credo degli studi lo studio di problemata 30 credo che non compagna nei programmi di psichiatria però per tutta l'antichità e anche successivamente è un testo di riferimento fondamentale ed è compare nella tragedia greca a indicare quei momenti in cui sia la depressione sia l'esaltazione si susseguono rapidamente Izan Starobinsky ad esempio appunto studioso della malinconia eccetera ha scritto un saggio forse il suo uno dei suoi più belli la spada di Ajace dove analizza l'Ajace di Sofocle e giustifica diciamo analizza il perché come sapete dai vostri studi di mitologia Ajace impazzisce e vorrebbe uccidere i atridi di Ulisse perché gli hanno sottratto le armi di Achille scusate le armi di Achille furono attribuite ad Ulisse come il miglior guerriero greco e non ad Ajace che invece sosteneva di aspirare impazzito Ajace vorrebbe andare alle tende dei capi greci e farne strage Atena invece gli crea un fantasma un simulacro e gli fa credere che un greggio di capre scusate di di capri di pecore siano in realtà gli atridi e quindi Ajace fa strage di questo greggio lo stermina poi il giorno dopo si risveglia e vede che invece di uccidere Agamennio ha ucciso le pecore allora si viene preso da depressione cioè la crisi di esaltazione maniacale succede la depressione ed è preso da diciamo dal disprezzo di sé e si uccide la spada cade sulla propria spada come morivano i guerrieri antichi e Arieti conosce bene questi testi queste analisi ipocratiche queste analisi galeniche e individua nella nella tragedia nel modello della tragedia in alcuni personaggi di tragedia come Ajace ma anche come Amleto come Macbeth come King Lear il prototipo della depressione ma direi di più io non voglio prendere troppo tempo questa analisi che lui fa appunto di Problemata 30 è splendida perché conosce un testo diciamo minore rispetto alle opere di Aristotele un testo minore che però ripeto sia nella Tartantina nell'ellenismo sia nella cultura umanistica aveva molto ha avuto molta fortuna non solo non solo Arieti conosce Problemata 30 conosce San Nazaro ma ha letto perché lo cita un testo che è fondamentale per la conoscenza del rinascimento italiano cioè il De Vita Libri 3 di Marsilio Fiscino cita Marsilio Fiscino e lo cita perché per lui la depressione altro non è che l'inquietudine dell'uomo di cui Fiscino parla nel secondo dei suoi libri sulla vita cosa vuol dire cosa dice Fiscino dice l'uomo in realtà è diviso in due da un lato partecipa della scintilla di divino che è legata alla creazione cioè appunto è stato insufflato dall'altro però vive sulla terra quindi è fatto di corpo è sempre inquieto perché aspirerebbe a una spiritualità superiore e dall'altro però è costretto alla vita sulla terra questo il Marsilio Fiscino ricordo qui proprio qui in una scuola normale le lezioni del mio maestro Eugenio Garen sono il frutto della conoscenza da parte di Marsilio Fiscino della sua traduzione del corpus ermeticum che all'epoca Fiscino come tutti gli studiosi di Platone attribuiva appunto a Platone nel corpus ermeticum si sostiene che in realtà il mondo la realtà è composta da alto e basso e da micro e macro antropo lo chiamo così per cui c'è da una parte una dimensione di assoluta spiritualità e dall'altra invece la parte corporea che però questa teoria del corpus ermeticum in realtà poi ricorda ma qui spero di non essere trascinato per questa via anzi mi taccio perché altrimenti potrei parlare a ore con le sefirot ebraiche che Arieti ben conosceva e con la tradizione della cabala e che infatti appunto Marsilio Fiscino conosceva quindi era un cabalista cristiano così come tutta una tradizione legata alla cabala poi diventerà il misticismo cristiano come ha mostrato Francis Yates nei suoi studi sui Rosa Croce quindi la depressione non è soltanto un fenomeno biologico biologistico organicistico che va curato con il litio come all'epoca si cominciava a fare dopo gli studi di Cade di J.F. Cade che cita appunto ma è un fenomeno culturale è legato a una concezione del mondo è legato al modo in cui gli uomini si rapportano alla realtà questo rapporto è legato a quella questione della eterodirezione e della autodirezione che poi è diventato un concetto sociologico centrale nella teoria di David Riesman nella folla solitaria per cui nella società attuale gli uomini sarebbero eterodiretti quindi hanno una funzione di rivendicazione di rassontimane con fronte al mondo nella autodirezione in realtà gli uomini sono convinti come avviene gli uomini del rinascimento ma poi soprattutto agli esponenti della cultura protestante a introiettare la propria colpa a considerarsi colpevoli e quindi su questa base sono ammalati a mano di depressione perché si considerano colpevoli dei propri danni dei propri mali delle proprie azioni si considerano responsabili delle proprie azioni e di conseguenza quando queste azioni non vanno a buon fine si autoaccusano quindi la depressione è una tipica espressione di una dimensione di autodirezione che è tipica della modernità cioè postmedievale dopo la rivoluzione copernicana l'uomo lasciato solo a se stesso nel grande cosmo degli infiniti universi e mondi di Giordano Bruno in realtà appunto è essendo autodiretto è anche colpevole di quello che fa delle proprie azioni non è eterodiretto e di conseguenza la depressione è il frutto di questo nella società attuale e qui vado verso la conclusione Arieti dimostra anche competenze in letteratura contemporanea forse non inconsuete ma sicuramente importanti cita il mito di Sissifo di Albert Camus che è un testo del 1942 e dice appunto Albert Camus dice che non c'è nessuna ragione perché gli uomini moderni oggi non dovrebbero suicidarsi cioè il suicidio dice Camus in questo testo è forse l'unico atto normale dell'essere umano perché appunto a che serve vivere cito la Camus gli uomini muoiono e non sono felici quindi la depressione in realtà è già dentro di loro e poi cita ancora Anathamud Godot aspettando Godot di Samuel Beckett dove appunto un personaggio Valdimiro dice ma dove si va non c'è niente non succede niente non accade niente quindi a che serve vivere qual è la realtà della vita la vita non ha senso che è una tipica forma espressiva della depressione depressione lieve ma anche della depressione grave ma a questo Arieti obietta e questo è importante mi sembra importante vorrei concludere con questo lui dice gli anni 40 sono stati gli anni 30 sono stati gli anni della scusate gli anni 40 sono stati gli anni dell'età dell'ansia no? la Age of Anxiety che è il titolo di una celebre raccolta di poesie di Winston Hugh Oden che appunto precedentemente Arieti ha citato quindi conosce i poeti inglesi come Oden come Dave Lewis ecc gli anni 50 sono stati gli anni 50 sono stati gli anni della alienazione no? ricorderete per esempio un celebre film di Michelangelo Antonioni La notte no? in cui si parla della alienazione non più come concetto filosofico egheliano marxista ma proprio come condizione dello spirito gli anni 60 sono stati gli anni della rivolta dice lui della collera no? quindi allusione alle rivolte giovanili eccetera eccetera gli anni 70 dicono saranno gli anni della depressione ma non è vero citando uno scrittore inglese che in Italia ha avuto di la verità scarsa fortuna John Gardner che ha scritto un pamphlet Dead by Pen morte per penna no? che è come sottotitolo alcuni uccidono con la spada altri con la penna che è una criptocitazione dalla ballata del carcere di Reading di Oscar Wilde Gardner diceva appunto che ci sono degli scrittori che uccidono con la penna precedentemente anche Arieti aveva citato i dolori del giovane Werther di Goethe che causò come forse come sicuramente sapete una epidemia di suicidi nell'intera Europa no? i giovani si uccidevano perché avevano letto Werther consideravano uccidersi si direbbe oggi cool alla pace fico ma la depressione la condizione depressa all'interno di questa grande letteratura Beckett Camus eccetera conduce a una condizione di depressione che non è soltanto una malattia ma è uno stato d'animo è una Weltanschauung dalla quale però bisogna uscire e nel finale di questo capitolo poi la parte successiva sarà scritta e non ne parlo da Jules Benporad il cugino ed è dedicata con un'analisi splendida ma appunto non è a Rieti quindi non se ne parla di Franz Kafka in cui appunto la metamorfosi la trasformazione di Gregor Samsa in un gigantesco insetto come sapete è simbolo della depressione grave appunto di chi si considera un insetto si considera uno scarafaggio si considera un insetto nella conclusione del suo saggio Rieti dice che invece bisogna avere fiducia nell'uomo bisogna avere speranza che in realtà la depressione non è una condizione esistenziale necessaria ma è qualcosa da cui si può uscire e si può uscire nel momento in cui si ha fiducia in se stessi compito dello psicoterapeuta è quello di dare fiducia ai propri pazienti instillare in essi la speranza i pazienti depressi ma insomma i pazienti malati e dire che in realtà dalla condizione degli anni 70 in cui lui scrive della condizione della depressione si può uscire si può uscire grazie al rafforzamento della dimensione umanistica della cultura attraverso una interrelazione tra cura medica insomma cura clinica cura psichiatrica e dimensione umanistica per cui quelle forme espressive letterarie hanno una loro importanza notevole anche all'interno della cura e che lo psichiatra lo psicanalista non può trascurarle considerarle come un fenomeno accessorio rispetto alla cura con litio o alle cure mediche che quindi la letteratura è una forma di cura è una forma terapeutica in questo messaggio questo messaggio di speranza questo libro è scritto tra le ultime opere di Arieti è scritto prima del Parnasma in realtà è una delle sue opere diciamo cliniche importanti scritte in finale di carriera Arieti consegna il proprio messaggio di speranza nei confronti della psichiatria ma anche della cultura come strumento di cura e come strumento di redenzione qui forse il messaggio mistico di redenzione dell'umanità ed è per questo che credo e qui concludo che la collega Pavan abbia ragione nel dire che il Parnas non è un romanzo non è un romanzo storico forse non è nemmeno un romanzo è una tragedia perché a parte la parte scritta sotto forma di dialogo la parte finanziaria ma in realtà il rapporto tra l'uomo e il destino appare come l'elemento fondamentale della scrittura letteraria di Ariete ma nella tragedia nonostante sapete la tragedia nonostante gli dèi intervengano e condannano il fato intervenga e condanna gli uomini a un destino tragico e mortale c'è sempre la speranza la catarsi appunto aristotelica mediante il quale dalle colpe e dalla punizione delle colpe scaturisce un messaggio di speranza come quello che Edipo o Edipo lascia ai suoi spettatori nel momento in cui si incammina verso Colono dove concluderà la propria vita grazie grazie a Giuseppe Panella per questa bellissima presentazione sulle radici umanistiche e la grande cultura di Silvana Rieti e ritornando sottolineando ancora quello che era uno dei degli aspetti più importanti di questa presentazione era sulla depressione sugli aspetti anche culturali della depressione basta guardare quelle immagini che abbiamo di Silvana Rieti e il suo sorriso per capire quanto lui invece poteva dare fiducia ai suoi pazienti e dare il sorriso e dare questa quegli aspetti che Giuseppe Panella ha sottolineato molto bene e che ci aspettiamo tutti anche dalla psicanalisi perché no oltre che dagli altri medici che curano la depressione bene io direi in attesa un attimo del sindaco perché il sindaco aveva promesso che sarebbe venuto ci sono delle difficoltà per Marco Filippeschi allora abbiamo il piacere di avere l'assessore della cultura che è qui con noi e concluderà lui allora ma io semplicemente un saluto e un ringraziamento anche al nome dell'amministrazione comunale del sindaco di Pisa che si scusa con tutte e tutti voi ma purtroppo altri impegni lo hanno portato lontano dalla la nostra giornata di stamani ma io ho assistito con molto piacere molto molto coinvolgimento e ringrazio l'associazione per questa giornata di studi per questa mattinata davvero importante e significativa per questo nostro concittadino credo che di essere di aver assistito davvero a una serie di relazioni è un ricordo davvero vibrante stamani di Silvano Arieti per come è stato condotto dalle persone che sono intervenute dando di questa figura davvero ampiezza e mettendo in luce tutte le caratteristiche le peculiarità le eccentricità e anche la complessità e l'intensità di questa di questa importante figura per la nostra città per il nostro paese e per il mondo intero io volevo solo riflettere su una questione che nasce un po' da alcune cose che ho sentito ma dall'altro anche dai miei studi quando la dottoressa Bruschi è venuta e abbiamo parlato del convegno e mi ha parlato delle iniziative che sono state prese e ci saranno anche nel futuro di questo anno particolarmente importante del centenario della nascita le ho detto e le ho raccontato questa mia conoscenza che ho avuto da studente nei miei studi universitari e poi l'approfondimento che successivamente è seguito attraverso alcune letture anche del Parnasse e quando Ernesto De Martino che possiamo definire che non possiamo semplicemente definire filosofo o antropologo ma è una figura talmente importante secondo me talmente complessa per la cultura del nostro paese in alcuni dei frammenti dei brani della fine del mondo poi raccolti postumi affronta il tema e quasi fa una catalogazione della schizofrenia si rifà proprio agli studi di Silvano Arieti e quasi utilizza naturalmente riprendendo e sintetizzando sintomi patologie e da questo punto di vista mi pare molto importante come leghi questo tema questa patologia rispetto a uno dei suoi temi fondamentali che nel corso della sua vita lo accompagnano ma che in questo preciso momento non solo individua come la perda della presenza ma proprio come la catastrofe della presenza questo mi ha portato poi a approfondire a avere una particolare interesse per Arieti legato proprio al tema della perdita della presenza del legame anche con il tema di una mi rifaccio anche le ultime cose che anche il professor Panella diceva di un orizzonte culturalizzato del bisogno di una reintegrazione culturale quindi come veniva detto in gran parte delle relazioni che qui sono state fatte il tema della soggettività della patologia come ermeneutica dell'esistenza e da un punto di vista clinico da un punto di vista medico il il lavoro che il medico e lo studioso deve fare col malato col paziente appunto in un rapporto autentico e non in un rapporto freddo e esclusivamente clinico da questo punto di vista io penso che le cose che anche venivano dette dal professor Corrado Rossi siano fondamentali anche per quello che la città ha fatto e per le occasioni e i luoghi e gli strumenti che sono stati messi a disposizione anche negli ultimi anni proprio per far sì che buone pratiche vengano alla luce di insegnamenti fecondi e ancora attuali vengano costruiti insieme dalla comunità scientifica dagli operatori sociali e dall'amministrazione comunale che da questo punto di vista credo abbia dimostrato ma lo dovrà fare ancora di più e con più intensità nel futuro un'attenzione e una partecipazione alla costruzione di una comunità accogliente vitale e che non stigmatizza ma cerca di costruire nella relazione nella condivisione appunto e anche nella semplicità delle relazioni una comunità migliore e una società più giusta quindi da questo punto di vista un ringraziamento ma anche un auspicio che proprio la qualità l'intensità e la bellezza che oggi questo convegno ci ha regalato ne seguo tanti sono chiamato a partecipare a tanti ma davvero non in maniera diciamo formale ma in maniera davvero sentita penso di aver assistito davvero a una occasione che la vostra associazione insieme ovviamente alla scuola normale superiore al comune agli altri enti che hanno partecipato alla giornata di oggi davvero è stata un'occasione unica proprio per aver restituito la complessità di questa figura in maniera non solo esaustiva ma anche ed esauriente ma anche in maniera vitale cosa che credo in questo centesimo anniversario in questo centenario della nascita sia stato davvero importante e significativo così come e lo dico concludendo questa mia breve intervento così come avere in questo anno così significativo per la nostra città l'emissione di un francobollo commemorativo per Silvano Arieti nel centenario della sua nascita e per Galileo Galilei nel quattrocentocinquantesimo anniversario della nascita testimonia la grandezza delle due figure naturalmente ma il fatto che quest'anno per la nostra città per la nostra comunità per il nostro paese avere da parte del governo da parte del ministero dello sviluppo economico da parte di poste italiane insieme Galileo Galilei e Silvano Areti ci dimostra la grandezza della figura che abbiamo oggi ricordato vi ringrazio e penso che dovremo continuare a lavorare insieme anche nei prossimi mesi e nei prossimi anni grazie bene ringraziamo anche l'assessore alla cultura per queste deliziose gentili parole che ha avuto per questa nostra riunione che ormai sta per finire possiamo concludere io chiedo ultimamente da ultimo voglio chiedere solo se qualcuno vuole intervenire se c'è qualcuno che vuole portare due parole una testimonianza abbiamo anche un microfoni e quindi se qualcuno vuol dire qualcosa aggiungere sottolineare un commento no? nessuno sì prego Marco qui qui il professor Bacciagalupi guarda c'è anche come vuoi tu per un secondo per dirvi una cosa che ho saputo due giorni fa quindi è una notizia molto fresca io sono in contatto con un professore universitario spagnolo Balbuena che vorrebbe venire a parlare qua in ottobre nel frattempo lui si è messo in contatto con Giacomo D'Aquino che è stato un allievo di Arieti è stato analizzato da Arieti a New York e mi ha mandato una mail di D'Aquino a lui me l'ha inoltrata in cui D'Aquino ricorda che una volta ha invitato a cena a Torino Arieti e Carlo Levi e Carlo Levi si sono messi a recitare assieme una preghiera in ebraico vi dico solo questo che è una testimonianza del fatto che Arieti fosse un ebreo osservante e direi che non me ne rendevo conto fino a questo momento cioè questo me l'ha fatto toccare con mano e lo riferisco anche a voi grazie 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 bene vi ricordo come continueremo i grossi festeggiamenti a ottobre quando ci sarà il congresso con gli psicanalisti americani il 10 e 11 ottobre 11 12 ottobre si terrà qui a Pisa ovviamente sempre in normale no? sempre in normale ci sarà questo e continueremo ovviamente anche i festeggiamenti per quanto riguarda questo Franco Bollo e per quello che sarà lo storico incontro a Pisa appunto degli psicanalisti americani un incontro con gli psicanalisti italiani per quanto riguarda sulle orme sempre di Silvano Arieti io ringrazio tutti per aver partecipato c'è un piccolo rinfresco se volete rimanere ci fa molto piacere così possiamo continuare a discutere questa mattinata interessante grazie a tutti e buon proseguimento grazie a tutti 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 grazie a tutti